...con l'ultimo giorno di requisitoria del pubblico ministro... ...me fanno parte della nostra vita, quando si chiudono quei processi si chiude una parentesi della nostra vita. Oggi il programma è ambizioso, vi dico subito, perché è la giornata in cui ritengo si debbano dare una serie di sposte su quelli che sono i più rilevanti elementi di collegamento che il mio ufficio ha sottoposto al vostro giudizio per dare una ricostruzione, per effettuare una ricostruzione che fosse immune da tutta una serie di suggestioni non solo verbali, e fosse invece il portato della lettura attenta di tutta una serie di elementi acquisiti nel corso delle indagini che io ritengo siano diventati risultati probatori importanti che sorreggono un giudizio di responsabilità penale a carico degli odierni imputati. Ogni verità, diceva Schopenhauer, anche quella processuale, aggiungo io, perdonatemi l'accostamento tra me e lui, passa attraverso tre fasi. La prima è la fase in cui la verità viene ridicolizzata. La seconda è la fase in cui la verità viene violentemente contestata. La terza è la fase in cui la verità viene accettata come ovvia. Questo è esattamente quello che caratterizza un percorso processuale complesso che, come più volte ho segnalato, comporta l'analisi su più piani di elementi di grande spessore proprio perché oggi noi scriviamo un pezzo di storia processuale che riguarda questo territorio, che riguarda l'andrangheta, quale organizzazione di tipo mafioso, i cui programmi nel corso degli anni sono diventati sempre più vasti e ambiziosi, facendo buon uso del lavoro svolto dal mio ufficio, ma anche e soprattutto del lavoro che tanti altri hanno già svolto e continuano a svolgere in altre realtà territoriali. Perché, vi dicevo, il programma è ambizioso? Perché oggi noi andremo ad incrociare, nel rispetto che i tempi di questa requisitoria ci impongono, una serie di acquisizioni che riguardano il versante siciliano, con acquisizioni che riguardano il versante calabrese, per cercare di compendere una serie di accadimenti collegati anche a quella sigla che ho più volte evocato nel corso del mio intervento, che è Falange Armata, perché, come ho accennato nel corso delle precedenti udienze, tutto si inserisce in un disegno in cui le componenti mafiose si muovono accanto a componenti originariamente di altra natura. per poi andare a verificare ancora una volta se i parallelismi, se i piani paralleli tra quella che è la strategia puramente criminale e quindi stragista in senso stretto e quello che è il nuovo assetto politico che parallelamente si va formando in anni in cui, come ho spiegato più volte, vengono a cadere riferimenti importanti che avevano caratterizzato l'epoca precedente, ci dà quelle risposte che, oltre ogni ragionevole dubbio, consentono l'affermazione di una responsabilità penale in questa sede. Per fare questo, da quali dati intendo partire? Intendo partire dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ho certamente richiamato quando ho parlato dell'enorme contributo fornito da Gaspar Spatuzza che è Antonio Calvaruso di cui oggi voi avete una visione più chiara anche sulla base di quel verbale che è stato acquisito e che nella vostra disponibilità in cui il Calvaruso tratteggia legami, a mio modo di vedere, di grandissimo rilievo a fini ricostruttivi che sono i legami tra Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano in relazione ad un appunto, un manoscritto in cui erano riportate verità indicibili in relazione a quelli che sono i rapporti alti di Cosa Nostra. Toni Calvaruso come vi ho accennato anche la volta scorsa è un uomo riservato di Leoluca Bagarella e in quel verbale acquisito agli atti del 7 ottobre del 2014 racconta di aver ricevuto un quaderno proprio da Leoluca Bagarella che andava consegnato a Giuseppe Graviano. Attenzione a questo legame che non è assolutamente casuale tra due dei maggiori soggetti di vertice di Cosa Nostra. Perché quello che ci dice Calvaruso nel corso del processo è particolarmente rilevante? Perché non solo fornisce conferma definitiva alla correttezza dell'apporto dichiarativo di Spatuzza-Gaspare ma ci consente anche di valorizzare appieno in quale scenario si inserisce o meglio si inseriscono gli episodi calabresi in relazione ad accadimenti che forniscono una chiave di lettura indispensabile alla nostra ricostruzione. Per fare questo devo partire da considerazioni in parte già accennate che ruotano attorno al contenuto delle sentenze definitive a vostra disposizione in particolare le sentenze emesse dall'autorità giudiziaria fiorentina per richiamare alcuni punti indispensabili alla nostra ricostruzione. La strategia stragista aveva una precisa caratteristica un segno distintivo e inconfondibile che nella memoria verrà ancora meglio argomentato. Attaccava consecutivamente una serie di obiettivi simbolici omogenei. Attenzione. C'è stata la stagione degli attacchi agli uomini politici, c'è stata la stagione degli attacchi ai nemici giurati di Cosa Nostra Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, c'è stata la stagione in cui l'attenzione si sposta su simboli del nostro patrimonio artistico ma anche e soprattutto nella mia chiave di lettura simboli ecclesiastici, c'è stata la stagione in cui l'attenzione si sposta su quelle che sono le rappresentanze che più di ogni altro vengono percepite dalle persone per acquisire quel senso di sicurezza indispensabile al vivere civile che sono le forze dell'ordine ed in particolare i carabinieri come abbiamo visto e in questo troverete nella mia memoria che è un po' più ampia diciamo più del doppio rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali ma i contenuti sono rimasti assolutamente invariati perché come raramente accade tutto quello che abbiamo acquisito nel corso del processo si è inserito in una logica concatenazione rispetto a ricostruzioni che in parte avevamo già effettuato sulla base delle risultanze valorizzate in sede cautelare sulla scia degli eventi che noi abbiamo ricostruito sulla scia degli eventi che ci portano a quel fatidico 23 gennaio 94 e anche su questo vedrete nel corso del mio intervento di oggi quante ulteriori e rilevanti acquisizioni ci consentano di capire meglio che cosa significa nell'ambito di quella più ampia strategia il periodo che va da novembre del 93 al febbraio del 94 inseriamo anche tutti gli accadimenti calabresi le istruzioni che vengono date a Calabro quello che Calabro Giuseppe ci spiega insieme a Consolato Villali Nino Do Giudice in relazione a quel drammatico periodo anche per questa terra per arrivare all'arresto di Giuseppe Graviano nel 27 gennaio 94 e a quelle istruzioni che a Calabro erano state affidate che lo portano poi all'esecuzione dell'episodio del primo febbraio 94 dopo il quale perché non ci dimentichiamo che a Calabro era stato detto di sparare a un numero indeterminato di militari con le precisazioni che ho fatto la volta scorsa che lo porta quindi a proseguire in questa sua azione fino a quando e questo avviene subito dopo nei giorni immediatamente successivi alla cattura di Giuseppe Graviano e quindi dopo il primo febbraio 94 gli viene detto basta dal cugino Totò Filippone proprio perché da quel momento storico i Filippone sanno e abbiamo visto che quello che sa per quanto argomentato nella scorsa udienza e Rocco Santo Filippone inizia la fase in cui bisogna attendere il mantenimento delle promesse e che questa sia davvero la fase ve lo dirò nel corso dell'intervento di oggi richiamandovi quelle statistiche sulle rivendicazioni falange armata che vi accenno subito raggiungono il loro picco proprio tra i mesi di gennaio e febbraio del 94 per poi scomparire totalmente per 19 anni e riapparire solo nel 2013 e vi dirò in quale occasione dicevo una concatenazione di eventi sia temporale che oggettiva che ruota attorno alla figura di Giuseppe Graviano e non solo che per noi è e per le sentenze passate in giudicato è l'ideatore lo stratega l'organizzatore sul campo delle vicende stragiste continentali in generale ma è soprattutto l'uomo che assume un rilievo indispensabile in quella fase decisiva che va dal novembre del 93 al febbraio per lui ovviamente 27 gennaio del 94 se la vogliamo ricollegare alla sua diretta operatività ma sappiamo anche che Giuseppe Graviano non era il solo a cui era garantita la possibilità di operare su questo fronte se è vero come è vero che le ricostruzioni delle sentenze definitive vanno ben oltre il singolo tale ruolo di organizzatore della strategia ormai giudiziariamente accertato e mi scuserete oggi se la mia libera esposizione sarà molto condizionata dagli appunti che ho davanti perché vi dico subito che l'unico modo per rispettare gli impegni e quello di forzare anche la mia indola e la mia indola rimanere molto legato a quello che in questi giorni ho finito di ricostruire costituisce essa stessa un potente elemento di conferma intanto delle dichiarazioni rese dall'ospatuzza nel momento in cui evocano un accordo tra Giuseppe Graviano e i calabresi riferibili a quelle componenti elevatissime di indrangheta di cui abbiamo già parlato in relazione agli attacchi ai carabinieri nella provincia di Reggio Calabria ove la Corte fosse in qualche modo spinta ad effettuare un giudizio che io effettuo spesso per andare a verificare se la tenuta e la mia impostazione possa in qualche modo essere messa in crisi da tesi difensive più o meno fondate vi invito a effettuare un giudizio contropattuale rispetto a quello che è la piattaforma probatoria di cui disponete rimuovendo da quella piattaforma le dichiarazioni di spatuzza provate a fare questa operazione per andare a comprendere quanto la presenza delle dichiarazioni di spatuzza è inutile che io vi ribadisca nel loro peso genetico rispetto a tutta la ricostruzione di cui parliamo in questa sede rispetto a quello che è il materiale che oggi è nella vostra disponibilità che tipo di effetto provoca io vi dico che a prescindere dalle dichiarazioni di spatuzza noi abbiamo la prova inattaccabile di quelle che in gergo militare si chiamano intelligenze tra cosa nostra e entrangheta anche nel nostro codice in tutta una parte dedicata ai reati contro la personalità dello Stato e attenzione l'aggravante sulle finalità terroristiche estende le logiche valutative da quello che il piano puramente mafioso ad un piano apparentemente diverso ma che in realtà in quei terribili anni si è mosso in parallelo rispetto alle logiche mafiose per ricavare che cosa significa aver dimostrato che tra cosa nostra e entrangheta c'è un rapporto che certamente non potrà mai e poi mai anche prima di questo processo essere definito casuale e vi indico qui nuovamente i contributi di Calabro di Vilani di Loggiudice di Pino di Arturi di Morano di Grimaldi e tanti altri ma voglio soffermarmi sul contributo di Gaetano Albanese perché guardate il contributo di Gaetano Albanese a cui ho fatto un cenno rapidissimo sapendo che ci sarei tornato in queste considerazioni finali è di un rilievo impressionante se vogliamo andare a comprendere perché si muovono determinati soggetti ma soprattutto che tipo di rapporti questi soggetti hanno con le espressioni di vertice di Cosa Nostra e Gaetano Albanese è un piromalli collaboratore pluriverificato in decine e decine di processi è un killer dei piromalli di altissimo livello ma è anche uno dei pochissimi vertici delle famiglie che fanno parte della galassia piromalli mole che sono abilitati a partecipare ad alcune riunioni e le riunioni principali come la storia giudiziaria di questo distretto ci insegna venivano incontrate a suveretto di Gioia Tauro c'è un passaggio nella dichiarazione che Gaetano Albanese fa nel corso di questo processo che a mio modo di vedere ci serve per innestare tutta una serie di valutazioni successive che andremo a fare spero in maniera soddisfacente che andremo a farle pacifico in maniera soddisfacente è un giudizio che do a me stesso su quello che è il rapporto di quelle componenti di indrangheta che hanno avuto un ruolo nella stagione che stiamo cercando di ricostruire dice a un certo punto Gaetano Albanese sì io quel giorno che sono partiti dalla masseria molè la masseria molè è quella di contrada suveretto quel pomeriggio io poi ho collegato da quello che mi ha detto lui a quello che avevo visto io perché poi Albanese torna ad approfondire tutta una serie di tematiche perché assiste a un qualcosa vuol dire che non può rimanere in mente ad un uomo di indrangheta di quel livello quel giorno Luigi Mancuso era venuto alla masseria molè e c'erano anche Pino Piromalli e Momo molè guardate al di là delle suggestioni come i nomi sono quelli ormai a voi noti e sono andati via da lì ad un certo punto in maniera anche molto concitata cioè ci hanno lasciato tutti lì e c'era una sorta di riunione di indrangheta in corso per dire che cosa scusateci noi non tutti voi noi tre in realtà un'unica componente di indrangheta di vertice abbiamo una urgente riunione con i siciliani sono andati via da lì e sono andati o a Melipucco o a Oppido o a Mertina attenzione dice Gaetano Albanese non mi ricordo quelle zone là a fai questa riunione e poi quello che mi ha detto Diego ho collegato che erano delle riunioni là e siamo se non ricordo male nel 92 il verbale dibattimentale che ho appena richiamato è quello del primo ottobre del 2018 Melipucco o a Oppido o a Mertina attenzione perché le parole sono importanti come diceva qualcuno qualche tempo fa e sono ancora più importanti anche qui faccio le mie aggiunte comodissime in un processo in cui noi discutiamo vedete non di vicende che vengono consumate in una metropoli immaginate e calate tutto quello che noi stiamo facendo in questa sede in una realtà metropolitana enorme in cui tutto quello che si ricostruisce davanti a voi fa riferimento a Roma a Milano a Londra a New York a New York e poi Toronto tutto lì tutto lì tutto lì riferimenti tutti là tutti là e ovviamente il giudice in una situazione del genere ha anche difficoltà accogliere elementi ulteriori nel momento in cui c'è un dato geografico di cui noi possiamo beneficiare che deve e assume rilievo ai fini del decidere Melicucco non è Polistena non è Rosarno non è Laureana di Borrello Oppido Mamertina non è Taurianova non è Cittanova non è Delianuova perché Gaetano Albanese collaboratore di giustizia la cui attendibilità è fuori discussione parla di un incontro con i siciliani dei vertici dell'Andrangheta dell'epoca a Melicucco Oppido Mamertina perché queste riunioni sono avvenute come ci ha raccontato lo stesso Calabro ma come ci hanno raccontato Villani e lo giudice e sono avvenute davvero in determinati territori uno direttamente riconducibile a Rocco Filippone a Rocco Santo Filippone lo sappiamo l'unica cosa che io che mi terrorizza è soffermarmi e soffermarmi troppo sull'ovvio perché nessuno di noi ha il tempo di farlo e quindi abbiamo un dato geografico che coincide con il locale di Melicucco e il ruolo di Andrangheta ricostruito nel capo O della rubrica che noi attribuiamo a Rocco Santo Filippone ma poi abbiamo Oppido Mamertina guardate che incredibile questo nella misura in cui lo giudice ci dice di aver saputo che una importante riunione è avvenuta se non ricordo male ad Oppido Mamertina dove ovviamente storico feudo della famiglia Mammoliti verosimilmente si incontravano le più alte sfere dell'Andrangheta dell'epoca per parlare di determinati accadimenti quindi lo giudice non è un collaboratore di giustizia che in relazione a queste vicende per sentito dire butta dentro un riferimento qualsiasi ecco la forza di chi si avvale di un contributo dichiarativo che per nostra fortuna non riguarda la grande metropoli ci siamo visti a Roma eravamo a Roma questo è certamente accaduto a Roma e no e no qui non è così qui stiamo parlando di micro realtà territoriali che diventano però simboli di alto valore nel momento in cui vengono riferiti al contesto criminale in cui Meli Cucco ha un senso Oppido Mamertina ha un senso come ha un senso contrada su veretto di Gioia Tava e in tutto questo voi vi starete chiedendo adesso che cosa c'entra Calvaruso io ve lo vado subito a precisare proprio perché le dichiarazioni di Calvaruso confermavano in modo cristallino nitido un dato decisivo ai fini della nostra indagine e della ricostruzione che siamo chiamati a fare in questo sede e cioè che il soggetto per Cosa Nostra che per Cosa Nostra in quel periodo su un mandato del vertice riconosciuto di Cosa Nostra che era Leo Luca Bagarella e su questo credo che ci siano pochi dubbi alla luce dell'istruttore che è stata fatta qui e che viene fatta altrove e che è stata voglio dire già riversata in sentenze definitive per distinguere il ruolo stragista di Leo Luca Bagarella rispetto a quello di Bernardo Provenzano la cui figura nessuno rimuove dal panorama criminale ma attenzione non facciamo confusione su queste due figure perché in quel momento storico non avevano lo stesso ruolo e gli stessi compiti e dicevo in quel periodo storico colui il quale era incaricato da Leo Luca Bagarella di mantenere i rapporti con l'andrangheta aveva un solo nome e cognome Giuseppe Graviano questo dice il processo e lo dice Calvaruso in modo talmente chiaro da consentire a noi di ricostruire la posizione di Giuseppe Graviano in modo del tutto diversa ed è questo il motivo per cui Giuseppe Graviano è a processo in questa sede rispetto a quella di altri alti dirigenti di Cosa Nostra che hanno avuto un ruolo in quella terribile stagione ma che non avevano il compito di curare i rapporti con l'andrangheta da che cosa lo ricavo e qui sintetizzo dall'ospitalità che proprio lui e la sua famiglia fornivano ai calabresi di indrangheta presso il villaggio Euromare come ci raccontano più collaboratori di giustizia dal fatto che il traffico di armi e droga di quegli anni tra indrangheta e Cosa Nostra era ad esclusivo appannaggio degli appartenenti al mandamento di brancaccio e ce lo dice Carra ce lo dice Spatuzza e ce lo dicono in una veste autoaccusatoria nel momento in cui ci parlano di Cosimono Ligro e sul fronte calabrese ci parlano dei nirta e di altre componenti di indrangheta che operando in Milano si interfacciavano con le espressioni di Cosa Nostra in quel territorio ce lo confermano i collegamenti a livello politico eversivo arricchiti enormemente dal contributo dichiarativo di Giuseppe Graviano perché non ci nascondiamo uno degli argomenti chiave attorno ai quali ruota la nostra ricostruzione ha a che fare proprio con quelle tematiche politiche e poi vedremo oggi stesso in quali passaggi Giuseppe Graviano dice che l'argomento chiave è quello per tutto quello che lui ha vissuto su un determinato fronte e quindi quella che sarà Forza Italia e quindi quello che erano stati i movimenti autonomisti e separatisti anche e soprattutto sul versante calabrese anche alla luce di quelle che erano le riunioni di cui abbiamo parlato la volta scorsa che si dovevano svolgere in Calabria e non solo anche alla luce di quello che ci spiega Giovanni Brusca nel momento in cui ci parla di Graviano e di Lupo Cesare poi divenuto regente di Brancaccio proprio in un contesto in cui il discorso politico diventa un discorso certamente rilevante sul piano criminale per comprendere che cosa Danget e Cosa Nostra avevano in mente insieme ad altre componenti deviate di questo Stato le attività di collegamento costante che passano dalla figura di Giuseppe Graviano tra Cosa Nostra e Andrangheta che lo avevano trasformato in una sorta di custode di quelli che erano i rapporti alti tra le due strutture criminali di tipo mafioso ci vengono confermate anche qui mi basta richiamare le dichiarazioni a cui ho fatto più volte cenno da Pasquale Di Filippo da Giovanni Garofalo da Francesco Pino da Giovanni Brusca da Francesco Norato e da tanti altri in questo quadro si innesta il passaggio dichiarativo del Calvaruso su quelli che sono i temi che vanno oltre l'esistenza dei rapporti tra Andrangheta e Cosa Nostra perché il collaboratore Calvaruso comprendeva in termini di certezza che proprio Giuseppe Graviano era stato delegato all'interno del circuito dei capi di Cosa Nostra attenzione perché quello è il circuito di cui si parla il circuito di cui vi parla il collaboratore di Giacomo a curare lui e dopo di lui Nino mandano e quindi sempre il vertice del mandamento di Brancaccio attenzione che è il mandamento di Pennino attenzione perché voi ve lo state chiedendo perché Brancaccio io vi sto rispondendo immediatamente perché non voglio diciamo che questa domanda possa prendere discorsi diciamo percorsi errati e direzioni errate è il mandamento di Pennino attenzione è il mandamento dello zio di Pennino che si chiamava come lui cioè quello che veniva in Aspromonte a prendere ordini da componenti di vertice dell'Andrangheta per costituire quel sistema criminale che lui chiama comitato d'affari che doveva gestire le situazioni di alto livello che interessavano Andrangheta e Cosa Nostra attenzione anche qui non è un riferimento generico al gangsterismo new yorkese no Brancaccio è Brancaccio non è Palermo e non è la Sicilia ecco la specificità dei riferimenti che trasformano un elemento potenzialmente in grado di dimostrare in un elemento che dimostra e leggetele le dichiarazioni di Calvaruso leggetele le dichiarazioni di Calvaruso nel momento in cui io lo so che voi avete freddo in quest'aula ma io sono l'unico che non so non ho freddo voglio dire ma se fosse un congelatore proprio con i ghiaccioli sarebbe ancora meglio nel momento in cui avviene la cattura del Graviano nel gennaio del 94 e questo è un dato importante importantissimo dice Calvaruso Leo Luca Bagarella decide non di affidare quel compito ad Alcamo a Trapani no il compito rimane a Brancaccio perché quello è un compito che Brancaccio già dai tempi di bontate e in zerillo aveva sempre avuto e doveva continuare ad avere a Nino Mangano e sei diventato il regente visto che hanno catturato il Graviano e ricordati che tra i compiti specifici all'interno di Cosa Nostra che Brancaccio ha e che quindi avevano i Graviano e in particolare Giuseppe Graviano c'è questo questo c'è che diventò quindi dice Calvaruso l'uomo di fiducia dopo Giuseppe Graviano di Luca Bagarella nei rapporti con l'Andrangheta i rapporti con i calabresi da quel momento in poi passarono al Mangano e beh ti prendi il pacchetto e di chi si avvaleva il Mangano no perché per comprendere chi è Gaspare Spatuzza è quello che dichiara sui calabresi perché qui sembra che Gaspare Spatuzza una notte voglio dire di caldo come quelle che stiamo vivendo in questi giorni si sia in qualche modo svegliato tutto sudato e abbia detto ma va a finire che c'entrano pure i calabresi in tutto questo no Gaspare Spatuzza è quello che a detta di Calvaruso uomo riservato di Bagarella che lo faceva assistere a determinati incontri quando parlava proprio dei pizzini che andavano e venivano e dei contatti che bisognava avere con i calabresi precisa che Mangano si avvaleva di Spatuzza e lo nigro come ci dice Spatuzza peraltro precisandoci ancora Calvaruso e qui beneficiamo dell'apporto dichiarativo di un altro collaboratore di giustizia di grande rilievo che è Pasquale di Filippo che Spatuzza e lo nigro su questo fronte sono soggetti riservati di Bagarella e io determinate cose le ho viste e le ho capite anche se non era mio compito sapere quali fossero i compiti che il Bagarella poi affidava specificamente a Spatuzza e lo nigro perché io ero riservato loro erano riservati se vogliamo dare un senso a questa riservatezza non è che i compiti si mettevano in piazza sennò voglio dire che il riservati era là e che altro soggetto che faceva parte di questo gruppo era Pasquale di Filippo che cosa può testimoniare ulteriore argomento chiave delle dichiarazioni di Calvaruso che è quello del quaderno attenzione quello del quaderno che Bagarella per gestire cosa nostra faceva ricorso a un metodo che a un certo punto diventò un problema per le alte sfere di quell'organizzazione e in particolare per Matteo Messina Denaro e Giovanni Brusca cioè faceva ricorso ad una tecnica che verosimilmente aveva ereditato da Salvatore Rina che era una tecnica caratterizzata da una sorta di falsa politica è Calvaruso che spiega la tecnica di Bagarella su certi argomenti in un determinato momento storico ed è Calvaruso che ci spiega che a un certo punto diciamo si stava però creando un malcontento diffuso all'interno dell'organizzazione che sfociò proprio nella richiesta di Messina Denaro e di Brusca di calmierare tutta una serie di malumori che potevano diventare pericolosi ed è ancora Calvaruso a parlarci del progetto Sicilia Libera di Tullio Cannella delle riunioni che si fanno su un determinato fonte e a dirci che dopo le stragi del 93 Bagarella non fece grandi commenti almeno in mia presenza ma disse una cosa fondamentale devono apparire come azioni di tipo terroristico e poi vedremo qual era il motivo vero accompagnato da motivi ulteriori che lo spingevano a fare questo in relazione alla sigla falange armata la forza dimostrativa che è falange armata al fatto che rivendicare falange armata era un messaggio privilegiato a determinati ambienti che con quel mondo si erano già confrontate e non erano altro che i vertici dello Stato ad essere in grado di recepire immediatamente il messaggio che alcune rivendicazioni perché lo abbiamo detto subito che altre sono certamente il frutto di comportamenti emulativi avevano quale significato profondo nel dire siamo noi mi rivolgo a te per tutti gli altri siamo dei pazzi e tutto deve essere ricondotto a sigle non accostabili alle organizzazioni mafiose ma tu sai che non è così e tu sai che dietro quella sigla non devi andare a cercare strategie esclusivamente di tipo terroristico ma devi andare a cercare i messaggi che noi ti stiamo mandando e poi vedremo chi sono i protagonisti di quella stagione cioè coloro i quali avevano la chiave di decrittazione di quel linguaggio vi dicevo rimanendo a Calvaruso incrociato con Spatuzza con lo stesso Brusca e con gli altri collaboratori che vi ho richiamato prima nel momento in cui Spatuzza in quel ruolo che ci racconta Calvaruso poi riesce a raccontarci tutta una serie di ulteriori particolari che riguardano i rapporti tra Giuseppe Graviano l'Andrangheta e in particolare in quel momento storico i molepi romalli perché ricorderete riferimento all'aggiustamento dei processi in cui attraverso Mariano Agate si arriva proprio ai molepi romalli in quel contesto carcerario in cui si chiede e si ottiene ma anche in relazione a Vadalà Domenico detto Miculupu di cui ci parla Fabio Ranchina se volete sapere chi è Vadalà Domenico Miculupu e quali rapporti ha con l'Andrangheta Regina Deide Stefano avete tutte le sentenze che vi servono a questo scopo la sentenza Olimpia uno principalmente ma tutto quello che ruota intorno a quell'enorme contenitore investigativo e quindi gli amici ci dicono i collaboratori di giustizia calabresi che si sarebbero mossi per aggiustare il processo erano proprio i molepi romalli Fabio Tranchina invece ci parla di un versante anche temporalmente collegato ma diverso che è quello che riguarda Bova Marina e la famiglia Vadalà i riferimenti massonici a Mariano Agate sappiamo perfettamente per diretta ammissione di tutta una serie di soggetti che di quel circuito alto che era la Santa e che poi è diventata la Mamma Santissima all'interno dell'Andrangheta l'Alta Andrangheta era come l'Alta Cosa Nostra espressione anche dei circuiti massonici che contano cioè quelli non ufficiali come Mariano Agate pacificamente come Pennino pacificamente come lo stesso Cannella per quello che si ricavava dalle sue e da altre dichiarazioni e soprattutto sul fronte in cui tutti questi ci confermano la fortissima sinergia che c'è tra Cosa Nostra Andrangheta e massoneria irregolare o deviata e non è altro che il modello voluto e gestito per decenni da Licio Gelli quella è questo ce lo spiega benissimo lo stesso Virgilio nel momento in cui ci dice attenzione non criminalizzare i massoni che fanno anche tante cose buone all'interno però di quella componente massonica esattamente nella stessa ripartizione interna che le grandi organizzazioni criminali hanno tra ciò che deve apparire come tale e ciò che invece non appare perché deve portare avanti politiche criminali di un certo tipo e che esiste in quanto esiste la componente visibile voi trovate la risposta a quel mondo che genera le stragi in quegli anni che vanno dal 90 al 94 e poi vedremo anche oggi quanto rilievo avrà il 1991 un altro tassello di grande rilievo per capire perché i piromalli come vi ho già detto lo ricavate anche dalle dichiarazioni di Fabio Tranchina quando parla di quel Cesare Lupo che è mio cognato dice Tranchina che diventerà reggente del mandamento di Brancaccio anche lui molto legato a Graviano e questo lo sappiamo presta nome del Graviano su tanti fronti che in occasione di un permesso premio e ve l'ho già detto e nella memoria troverete tutti i dettagli su questo pensa bene di fare una tappa tra Melfi e Palermo a casa dei piromalli anche qui abbiamo la fortuna di poter valorizzare dati che vanno oltre quello che potrebbe in qualche modo dirsi ovvio dove ci fossimo mossi all'interno di una enorme ma unica comunità per dirvi ecco ancora la conferma di rapporti che Brancaccio aveva con quella famiglia e con le più alte espressioni dell'andrangheta un dato voglio precisarvi per consentirvi di collocare temporalmente in maniera corretta i riferimenti che Tranchina fa all'incontro di Bova Marina per dirvi che possiamo escludere che l'incontro tra Tranchina e Nunzia Graviano la sorella di Giuseppe Filippo e Benedetto sia avvenuto nel 2001 come dice Tranchina perché per quella che è la ricostruzione che noi facciamo su una serie di dati ulteriori possiamo affermare che lo stesso sicuramente non avvenne prima del 12 maggio del 99 in quanto è in tale data che Tranchina viene scarcerato dopo quattro anni di detenzione come può escludersi che tale incontro sia avvenuto dopo il 20 luglio del 99 giorno nel quale la Graviano Graviano Nunzia viene tratta in arresto quindi il periodo che ci rimane e quello che va tra il 12 maggio è il 20 luglio ed è il periodo in cui Graviano effettivamente erano interessati dal processo che ci indica Tranchina e avevano necessità di ottenere e anche qui non è una chiave di lettura banale aggiustamenti dall'andrangheta cioè l'alta cosa nostra come vi ho già accennato chiedeva all'andrangheta giustamente in questo modo il mio modo di vedere fornendo ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Tullio Cannella quando riportava il pensiero e ce l'ha confermato in udienza di Vito Ciancimino in cui diceva attenzione vedi che i rapporti più alti tra andrangheta e massoneria anche per intervenire sulle decisioni giudiziarie sono in Calabria quindi io sono Vito Ciancimino e certamente non sono l'ultimo dei soggetti che hanno un ruolo all'interno di cosa nostra che va oltre diciamo quel ruolo di base ma io stesso ti dico nonostante il mio rango elevatissimo di uomo delle istituzioni costantemente al servizio di cosa nostra che se vuoi portare avanti questo disegno il potere vero sta dall'altra parte dello stretto ecco come dovete interpretare e leggere il riferimento che fa Tranchina rispetto ad un aggiustamento che in qualche modo poteva essere gestito in autonomia anche da cosa nostra e se questo è il quadro quanto ai profili di convergenza con le propagazioni dello Spatuzza le dichiarazioni appena richiamate risulteranno ancora più significative infatti retrodatato al 1999 il tentativo di aggiustamento processuale di cui lo stesso Tranchina era stato ad un tempo testimone e protagonista può apprezzarsi in modo più evidente come i due collaboratori Calvaruso Spatuzza e lo stesso e lo stesso Tranchina facessero riferimento perdonatemi tre collaboratori Calvaruso Spatuzza e Tranchina facessero riferimento ciascuno per quello che aveva appreso e vissuto dal proprio punto di osservazione a due episodi che però facevano parte di un'unica strategia corruttiva che i graviano continuavano ad attuare attraverso le più alte espressioni della drangheta e questo non è un rapporto casuale perché aggiustare i processi noi ne stiamo parlando come se fosse la cosa più semplice del mondo ma aggiustare i processi è uno dei progetti più ambiziosi del comitato d'affari drangheta cosa nostra e pezzi di istituzioni di cui ci parlano i collaboratori in questa sede soprattutto attorno al dichiarato di Pennino che ho prima richiamato quindi il rapporto con gli amici calabresi in relazione alla necessità di ottenere sostegno per andare a incidere sul lavoro della magistratura è un profilo altissimo nel momento in cui viene correttamente contestualizzato e cioè attenzione guarda che non è che ho un problema semplice da affrontare no ho un problema di affrontare come solo tu sei in grado di fare perché le entrature più forti in un determinato mondo ce l'hai tu e la stanza di compensazione di quel mondo purtroppo da cui la stessa magistratura non può essere considerata estranea è l'alta massoneria deviata o irregolare o riservata chiamatela come volete non devo essere io a dirvi come funziona quello che vi ha spiegato perfettamente il professor Giuliano Di Bernardo quando vi ha detto io ho la prova provata e non ci volevo credere da gran maestro del Goi perché per me la massoneria quella era io una ne conoscevo nel momento in cui un massone di alto rango calabrese un giorno è venuto a dirmi gran maestro io come ero fedele al vostro predecessore voglio essere fedele a voi e voglio entrare nella vostra loggia riservata cioè noi abbiamo questo nel processo non le chiacchiere che si leggono spesso e volentieri cioè il vertice del Goi che si interfaccia con il duca di Kent che ci dice io ho avuto la prova provata da gran maestro che effettivamente le logge riservate del gran maestro esistevano e addirittura a Cordoba ho consegnato il documento perché quando ho sentito questo e volevo andare fino in fondo perché avete visto che tipo è di Bernardo ha detto ah sì mi fa piacere mi fai la domandina scritta per favore e me l'ha fatto quindi ricavo e comunico a voi che esiste davvero la massoneria irregolare che va oltre quello che si vede e quali fossero i compiti di questa massoneria irregolare lo stesso di Bernardo lo apprende in quella telefonata vi ricorderete perfettamente che riceve quando un interlocutore lo scambia per il suo predecessore gli parla di traffico di armi di armamenti che non mi pare che sia un comportamento che possa essere catalogato in quegli altri scopi alti alti scopi filantropici che speso e volentieri ci vengono riferiti da chi fa parte di un determinato mondo tant'è vero che i francesi si incazzarono ci dice di Bernardo perché non è che dissero ma come ti permetti tu italiano a trafficare armi con il centroafrica no non mi dissero questo mi dissero fatti i cazzi tuoi perché il traffico di armi con il centroafrica caro di Bernardo tocca la massoneria francese signori in quale mondo viviamo è una follia sentire queste cose ecco perché ha ragione Graviano e glielo riconosco che ha ragione quando dice io certo io pago ma chi deve pagare insieme a me che salvi sopra di me che ce lo dica lui poi vedremo se la magistratura italiana avrà o meno la forza di fare giustizia fino in fondo e allora vi schematizzo anche qui perché se no rischio di andare fuori da quelli che sono i binari che oggi sono ancora più necessari da seguire che i Graviano effettivamente nel 98 avevano problemi giudiziari esattamente come dice Tranchina effettivamente ebbero un contatto a questi fini come ci raccontano Sputuzza e Tranchina sappiamo anche come è andata in relazione al tentativo di aggiustamento tramite i piromalli da una parte tramite da là legatissimo ai Stefano dall'altra quello che ci interessa di più non è tanto sapere come è andata ma ci interessa sapere perché mi rivolgo a gente di Bova Marina perché mi rivolgo a gente di Gioia Tauro io sono il capo di uno dei principali mandamenti di Palermo Palermo e quindi di uno di quei territori di alta mafia che certamente nell'immaginario collettivo sono molto di più rispetto a Gioia Tauro e Bova Marina ma mi pare che così non è se Palermo deve rivolgersi a un paesino espressione di alta andrangheta che è pressoché sconosciuto ecco la forza dell'andrangheta calabrese ecco qual è la chiave di lettura però che tutti siamo chiamati a dare quando parliamo di determinati fenomeni attenzione 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 che siamo ancora lontani da questa sensibilità siamo lontanissimi siamo lontanissimi perché si forma il convincimento su fonti non autorevoli e questo è grave perché pochissimi leggono le sentenze anche tra quelli che raccontano e le verità giudiziarie si raccontano leggendo le sentenze non leggendo gli articoli degli altri in una sorta di enorme gioco del telefono che facevamo intorno al tavolo quando eravamo bambini in cui partiva ciao e finiva amore perché questo è il gioco che vogliono loro questo è il gioco tipicamente gelliano della disinformazione e la disinformazione nel contrasto delle mafie e agevolazione delle mafie perché oggi se ci riesco sarò molto più chiaro nel trarre le conclusioni rispetto a quello che finora vi ho illustrato è inutile ritornare sul telefonino è inutile ritornare voglio dire sulla forza di alcune affermazioni dei collaboratori di giustizia che vi sto richiamando ma devo richiamarvi ancora una volta perché è un dato al mio modo di vedere imprescindibile quello che è il metodo di spostamento utilizzato da Giuseppe Graviano che è un metodo di spostamento assolutamente compatibile con gli incontri che noi ricostruiamo in questo processo e con i tabulati telefonici di cui vi ha parlato nell'udienza scorsa il collega Ignazitto è chiaro che affermare di avere degli elementi dimostrativi su un versante non vuole in alcun modo e non può in alcun modo escludere che ulteriori contatti ci siano stati tra Graviano Giuseppe i suoi uomini e la componente calabrese attenzione attenzione perché lo avete visto anche analizzando i tabulati di cui ci ha parlato Cappotella non è che avessimo a che fare e non abbiamo mai avuto a che fare con gente che non conosce qual è il potenziale indiziario di questo oggetto e no cioè nell'analisi dei tabulati voi notate un utilizzo prudentissimo di questo infermale aggeggio nel momento in cui so di essere impegnato in un'operazione che non è un'operazione di cui devo fornire troppe tracce anche all'inquirente distratto quindi Graviano certamente sì per quello che abbiamo ricostruito al fianco secondo me di ulteriori contatti affidati agli uomini di Graviano ecco come leggere con impostazione più ampia quello che i collaboratori di cui stiamo parlando oggi ci hanno più volte spiegato ed ecco come dovete poi nell'inquadrare anche l'incontro di Lupo Cesare e Gioacchino Piromalli risalire al 27 settembre del 2003 quando in occasione di quel permesso durante il viaggio di ritorno giustamente avrà detto Lupo prima di tornare in carcere lasciami abbracciare un amico con cui ho condiviso un'esperienza carceraria importante si ferma a Gioia Tauro dove incontra Gioacchino Piromalli ecco perché il 20 dicembre del 2007 Giovanni Torregrossa classe 77 uomo di Cesare Lupo cognato di Fabio Tranchina nuovo reggente del mandamento di Brancaccio giunge a Gioia Tauro a Palermo e incontra nuovamente Gioacchino Piromalli ma chi è Gioacchino Piromalli di cui si parla perché e non ve lo ripeto più è chiaro che è tutto frutto di una concatenazione fortunosa vi dirà qualcuno quello che portiamo alla vostra attenzione e va bene perché penso che non ci sia risultato importante nella nostra vita che non passa certamente da concatenazioni fortunose bene lo sappiamo ma Gioacchino Piromalli è uno dei protagonisti di cent'anni di storia Gioacchino Piromalli avete tutto quello che vi serve documentalmente depositato agli atti per capire qual è il rilievo di un processo come cent'anni di storia e cent'anni di storia non l'abbiamo chiamato noi così sono i Piromalli che dicono occhio quando comunicherai attraverso Miciche a Dell'Utri chi deve andare a gestire determinate situazioni collegate al noto movimento politico devi dirgli e ribadirgli che noi abbiamo cent'anni di storia non è che sta parlando con un'organizzazione di ragazzini di belle speranze che è nata ieri e infatti in cent'anni di storia e anche qui come vedete i nomi sono sempre gli stessi e quando i nomi continuano ad essere sempre gli stessi vi dico che oltre ogni ragionevole dubbio quei nomi sono corretti a maggior ragione se il mio ufficio nel 2007 e 2008 ancora prima che Spatuzza per la prima volta rivelasse come leggere in un contesto più ampio quello che era avvenuto in Calabria tra il dicembre e il febbraio del 94 non aveva ancora avviato nessuna attività di indagine che potesse in qualche modo immaginare un processo come quello che stiamo celebrando attenzione perché a volte anche il vuoto acquisisce una forza dimostrativa accanto al pieno per comprendere la particolare valenza delle circostanze che ruotano intorno alla figura di Arcidiaco quando da espressione delle componenti di vertice dell'Andrangheta di Gioia Tauro e cugino di Giuseppe Ri Romalli chi ci ascolta per la prima volta oggi pensa che l'Andrangheta sia formata da tre famiglie Piromalli Molè e De Stefano per una serie di costole aggiuntive purtroppo solo in questa provincia ce ne sono oltre 160 come vi ho detto solo in questa provincia e quando si fa riferimento in quella ricostruzione al ruolo dell'Arcidiaco e agli incontri che riguardano Dell'Utri si sarebbe dovuto precisare che ha avuto autorizzazione l'Arcidiaco dal cugino Giuseppe Piromalli di dire che noi possiamo garantire Calabria e Sicilia questo si intercetta in cent'anni di storia ma come ti permetti di parlare della Sicilia se tu con la Sicilia non hai nessun regalo e se la Sicilia da che mondo è mondo ha una sua struttura criminale certamente non di seconda fascia perché lui parla a nome anche di cosa nostra come cosa nostra parla a nome dell'andangheta Leonardo Messina ha provato a dirlo a ripeterlo mi avete capito che quando parliamo dei circuiti alti noi parliamo di un'unica grande struttura perché se non lo abbiamo capito neanche noi fino a questo punto probabilmente non lo capirà mai nessuno questo gli dice ho avuto autorizzazione di dire che gli possiamo garantire Calabria e Sicilia in effetti le indagini evidenziano che questo riferimento non è casuale e trovano un preciso riscontro nei rapporti che da tempo l'organizzazione mafiosa siciliana si legge in cent'anni di storia intrattiene con quella calabrese e in particolare con la famiglia Piromalli ecco il riferimento all'incontro di Gioacchino con Lupo Cesare e con Giovanni Torregrossa per comprendere la particolare valenza delle circostanze appena riportate bisogna in primo luogo evidenziare che la storia giudiziaria di Marcello Dell'Utri è nota cioè non è che stiamo voglio dire ancora qui a ragionare su relazioni che non hanno avuto sbocchi giudiziari definitivi è nota e soprattutto è noto che risultava avere rapporti stretti proprio con i fratelli Graviano e con Antonino Cinà il cosiddetto medico di Cosa Nostra molto vicino a Corleonesi è legatissimo ai Graviano primo punto secondo punto è necessario chiarire come si arrivasse ad un certo punto all'incontro arcidiaco cugino di Giuseppe Romalli e Marcello Dell'Utri e da quel processo da cent'anni di storia emergeva in tale contesto di rapporti intermafiosi la figura del faccendiere Aldo Micichè già dirigente della democrazia cristiana rifugiato da tempo in Venezuela dopo essere stato condannato a circa 25 anni di reclusione per diversi reati dalle indagini emergeva e il processo confermava che il Micichè era un uomo completamente legato mani piedi e culo perdonatemi ma questo è il testuale questo è il testuale che si ricava da cent'anni di storia ai Piromalli Molè che all'epoca e siamo in un'epoca antecedente al primo febbraio 2008 quando l'asse Piromalli Molè in qualche modo subisce un forte scossone per l'omicidio di Rocco Molè è ancora unico unitario granitico quanto ai suoi compiti nell'organizzazione il Micichè metteva a disposizione dell'intero sodalizio calabrese il proprio tessuto relazionale e veniva accertato che mentre Gioacchino Piromalli si incontrava con gli uomini di Giuseppe Graviano Lupo e Torregrossa Micichè era in contatto telefonico con Gioacchino Arcidiaco al quale forniva informazioni e suggerimenti in ordine ad un incontro che lo stesso Arcidiaco avrebbe dovuto avere di lì a poco con Marcello Dell'Utri in buona sostanza da quel processo emergeva non solo il rapporto Dell'Utri Micichè ma anche il rapporto tra Dell'Utri e Piromalli attraverso Arcidiaco a cui i Piromalli avevano chiesto favori in cambio di appoggio elettorale vi ricordate quel 24 febbraio del 94 quando Don Peppino Piromalli aveva chiesto la parola nel corso del processo e si stava celebrando a palmi per dire voteremo Berlusconi voteremo Berlusconi lui e non altri affermava in proposito il Micichè rivolgendosi all'Arcidiaco in vista dell'incontro con il Dell'Utri di dire che la Piana è cosa nostra il porto di Giaio Tauro l'abbiamo fatto noi fagli capire che in Aspromonte tutto quello che succede là sopra è successo tramite noi e attenzione che riferimento all'Aspromonte non è alla bella montagna che avete alla vostra destra la Aspromonte nel gergo dell'Andrangheta significa polsi cioè la testa formale dell'Andrangheta nel mondo e ricordati gli dice che la politica si deve saper fare e poi sottolinea la frase che vi ho richiamato prima che ha avuto autorizzazione di dire che possiamo garantire Calabria e Sicilia e come va letta fino in fondo questa affermazione che l'autorizzazione non è che l'ha rilasciata soltanto l'Andrangheta a loro ma l'ha rilasciata quel livello elevatissimo in cui Andrangheta e Cosa Nostra su questi temi si parlano proprio per evitare che ci possano essere incomprensioni o disallineamenti dannosi ecco perché è abilipatato a dire Calabria e Sicilia anche quindi per questa via noi traiamo la diretta convinzione che diventa prova insuperabile in questo processo di uno stabile duraturo strutturato sinergico rapporto tra la famiglia Graviano e i Piromagli e non ho necessità di richiamarvi nuovamente perché purtroppo gli argomenti sono tanti e poi vado fuori dai tempi che mi sono dato quello che significa tutta la vicenda Notargiacomo quello che significa il rapporto voglio dire di cui ci parlano questi collaboratori di giustizia in relazione a Euromare Bagarella Nino Marchese per dirvi però che c'è un aspetto che ci serve per poi andare a inquadrare meglio che cos'è Falange Armata che vi segnalo subito che ruota attorno ai rapporti che in carcere Leo Luca Bagarella aveva stretto con alcune componenti eversive della destra eversiva quale ad esempio Mario Di Curzio per dirvi che Mario Di Curzio era legatissimo a Pierluigi Concutelli e che voi avete nel processo Olimpia le dichiarazioni di Giuseppe Albanese e dello stesso Pierluigi Concutelli che sapete che cosa vi dice che quando era latitante e Pierluigi Concutelli probabilmente non è latitante solo ora e sta malissimo e che non sono riuscito a sentire perché non può più parlare per i problemi che ha ma quando era Pierluigi Concutelli che è ricavata dalle sentenze in atti Pierluigi Concutelli sapete che faceva quando era latitante a Roma e qui la forza del riferimento alla metropoli è esattamente l'opposto rispetto alla debolezza che vi segnalavo prima condivideva l'appartamento con Paolo e Giorgio De Stefano e qui ci starebbe un'espressione romana visto che parliamo di Roma che inizia a costì e il resto ve lo immaginate da soli a Roma milioni milioni di alloggi possibili Pierluigi Concutelli legato a Mario Di Curzio legato a Leoluca Bagarella divideva lo stesso alloggio con Paolo e Giorgio De Stefano quei Paolo e Giorgio De Stefano attenzione non fate confusione a cui deve aggiungersi l'altro Giorgio l'altro Giorgio che è l'avvocato Giorgio il cui nominativo ricavate dalla sentenza gota abbreviato che avete in atti per capire come noi oggi lo inquadriamo non è definitiva però il dato storico è là non possiamo far finta neanche che il processo non ci sia il dato storico ci dice la Suprema Corte lo puoi valutare e se no facciamo finta che niente esista fino in fondo e stiamo qui per giorni a raccontare una favoletta che può essere interessante ammazza che ho sentito con le mie orecchie però torniamo a fare la vita che abbiamo sempre fatto no non è così non è così perché abbiamo rischiato di fare la vita che hanno voluto altri che noi vivessimo e non era la nostra vita e quando questi collaboratori che vi sto richiamando che spiegano come erano nati i rapporti quindi notar Giacomo come erano nati i rapporti con i Gaviano come loro avevano appreso tutte queste confidenze di Lucchino Bagarella cioè non confidenze da poco ci spiegano anche a chi loro facevano capo all'interno di quella macro struttura criminale che è l'andrangheta in Italia e nel mondo perché ovviamente la prima domanda che tu gli fai è scusami ma tu un dranghetista come nasci come disse un collaboratore di giustizia qualche anno fa posso citare Luigi Buonaventura quando andai a sentirlo per la prima volta gli dissi Buonaventura senta lei nasce e cresce nella zona di Crotone ma lei mi deve spiegare quando parliamo di alta andrangheta lei come si colloca io nasco stefaniano perché nascere de stefaniano significava nascere bene ed era di Crotone eh attenzione non eravamo riconosciuti dicono in Ocaltò da Giacomo come Cosca dal crimine di Polsi anche se eravamo cioè non avevano il timbro non che non esistevano non erano timbrati anche se eravamo operativi come locale di Cosenza avevamo rapporti molto intensi con chi? con i NIRTA quelli di cui parlano i collaboratori siciliani che vi ho citato prima con gli Aricò che sono una componente storica di De Stefano Tegano e con i Pelle cioè il vertice del crimine di Polsi fino all'estate del 2009 per poi raccontare il ruolo di Giovanni Drago questo ve l'ho già accennato i rapporti con Nino Marchese e come erano diventati intimi di Giuseppe Graviano tutto quello che ruota intorno al villaggio Euromare ma per dirci anche una cosa che non ho sentito però con la dovuta chiarezza nelle parole di Giuseppe Graviano in quest'aula per dirci che Graviano in Calabria ci veniva non l'ho sentito chiaro su questo io e lo so perché non è stato chiaro perché ovviamente questo è un argomento su quale poi si possono innestare tante altre situazioni da dover spiegare perché Nicola Notargiacomo sono due fratelli quindi ho dovuto verificare chi dei due se è Nicola Odario ci dice che Giuseppe Graviano è venuto a Cosenza con sua moglie a farti visita sua cognata con Marcello Tutino nell'estate dell'88 andammo a Camigliatello Silano pernottarono presso l'abitazione di Bartolomeo Stefano incontrata Andreotta e quindi c'è un Graviano e la Galabria nei racconti di Dario e Nicola Notargiacomo e c'è poi nel completamento di questi riferimenti anche il fatto che Graviano si muoveva anche quale e questo la storia giudiziaria ce lo dice con estrema chiarezza per cercare luoghi dove Salvatore Rina potesse passare dalla titanza avevano pensato proprio al territorio silano e ti credo neanche i lupi lo trovavano in Sila per poi tornare a precisare elemento certamente rilevante per capire perché solo alcune grandi famiglie hanno il ruolo apicale che c'è stato raccontato in questo processo non perché portano un nome più televisivo rispetto ad altri quando ci spiega che Giuseppe Graviano era molto legato ma erano anche Leo Luca Bagarella e Nino Marchese a Mario di Curzio detenuto nel periodo 85-88 nel carcere di Ascoli Viceno noto estremista di destra Esgar Gastolano è killer delle carceri che sembra un'espressione guardate così dice ammazza killer delle carceri e no killer delle carceri non è un'espressione come tante altre perché uccidere in carcere non è un compito come tanti altri come potete immaginare posso affermare a un certo punto dice che secondo quanto mi diceva Giuseppe Graviano lui teneva costantemente informato sui nostri traffici sui nostri rapporti sui legami cosa nostra andrangheta proprio lo zio Totò Rina ecco perché quando Rina viene catturato il 15 gennaio del 93 e le redini passano a Lucchino Bagarella Lucchino Bagarella se bisogna parlare con i calabresi in carica Giuseppe Graviano ecco perché perché il vertice di Cosa Nostra sa quali sono i rapporti tra le due grandi strutture criminali e soprattutto qual è il ruolo di interfaccia che i Graviano svolgono da anni ma sapete cosa dice a un certo punto e recuperiamo di nuovo la dimensione a noi favorevole dei piccoli paesi in cui le grandi comunità di andrangheta sono insediate e operano e questo lo ricaviamo da quello che ci dice Dario Notargiacomo non Nicola guardate anche qui il caso oltre a noi oltre al rapporto con noi i Graviano per quello che mi risulta caro pubblico ministero avevano altri rapporti con l'andrangheta a e dove mi ricordo perfettamente che avevano rapporti con appartenenti all'andrangheta della zona di Polistena a di Polistena ma sarà quello stesso paese l'acquistazione dei carabinieri ha ricevuto la rivendicazione di Falange Armata ma sarà quello stesso paese che dista dalle abitazioni di Filippone meno di un chilometro sarà quello stesso paese lì il paese con cui a Inotargiacomo risultano i rapporti di Giuseppe Caviano con l'andrangheta che poi Polistena non è stata mai una capitale dell'andrangheta e vabbè questo rientra sempre nella nostra enorme fortuna perché se avesse detto Gioia o avesse detto Reggio Calabria o avesse detto San Luca ma la stessa Rosarno beh dice grazie alta andrangheta alta cosa nostra con chi volevi che avesse rapporti no Polistena cercate all'interno delle sentenze che avete definitive attraverso cui ricostruire la composizione complessiva la strutturazione complessiva dell'andrangheta qual è il ruolo di Polistena uno dei tanti territori controllati dall'andrangheta ma non certamente una capitale quindi il ricordo di Dario Notargiacomo su Polistena non è un dato di generica ma è specifico soprattutto perché come vi dirò più avanti parlandovi di Falange Armata non è un caso che si faccia riferimento a quell'area che è l'area di Melicucco come non è un caso che si parli degli aricò anche qui lo ricavate dalle sentenze che avete in atto che sono una costola operativa molto importante dei De Stefano Tegano dei De Stefano in primis attraverso la componente teganiana oltre al riferimento all'alloggio perrina che Graviano chiedeva loro di individuare in Sila ancora prima del loro soggiorno presso il villaggio Euromare di cui ci parlano Calvalluso e Cannella in particolare sapevo dicono in Otragiacomo in particolare Dario degli stretti rapporti a ricò e Tegano ma sapevo anche che lì quando parliamo di queste famiglie parliamo dei De Stefano cioè il famoso podio di cui ci parla Moio ho conosciuto Toni Calvaruso come no certo che l'ho conosciuto l'ho visto in più occasione proprio nel villaggio Euromare di cui stiamo parlando ma si muoveva in maniera molto molto attenta e quindi io non so dirvi che ruolo avesse e certo è Toni Calvaruso che dice che ho riservato che fa cammina con il manifesto appeso al collo in cui indica quelli che sono i suoi compiti certamente dice ho capito che era un soggetto che conta perché stava lì come ho capito anche altro dato dirompente in questo processo che nei miei rapporti con Leo Luca Bagarella quelli che già avevo avuto in carcere avevo avuto modo di capire che Leo Luca Bagarella era legatissimo a Santo Mazzei quel Santo Mazzei il commissario lo chiamo io Santo Mazzei voluto da Bagarella Brusca e i vertici di Cosa Nostra per commissariare la componente di Cosa Nostra Catanese che solo in alcune sue attesfere era decisamente stragista quel Santo Mazzei il Santo Mazzei che è la fonte principale del racconto di Giuseppe di Giacomo il Santo Mazzei che in Lombardia gestiva il circuito unico delle mafie di cui ci parlano i collaboratori che vi richiamate nelle precedenti udienze Fiume Anacondia Foschini Cuzzola quello e tale circostanza la posso confermare in quanto fu Bagarella varie volte a dirmi salutami Santo Mazzei il Santo Mazzei del giardino di Boboli in Firenze di cui abbiamo già più volte parlato queste sono le premesse indispensabili per arrivare e tutto questo sarà schematizzato anche graficamente nella requisitoria scritta alle risposte che ci provengono anche in relazione agli accadimenti calabresi ma direi soprattutto in relazione agli accadimenti calabresi rispetto alle tempistiche della stragione stragista rispetto alla sigla falange armata e alla nascita di Forza Italia perché se non allineiamo fino in fondo questi argomenti rischiamo di fare una ricostruzione a metà soprattutto perché come abbiamo avuto modo di vedere già nel corso del processo e nel corso del mio intervento orale di conclusione una serie di ordini sono stati affidati con una tempistica che assume un rilievo evidente anche soprattutto in relazione alle rivendicazioni di cui noi disponiamo che provengono da quella sigla in cui attenzione si inserisce il narrato di Villani e in cui si inserisce con le reticenze che vi ho segnalato già la scorsa udienza anche il narrato di Calabro la vicenda falange armata non è una vicenda semplice ed è una vicenda non semplice per una serie di motivi perché le rivendicazioni le minacce le illecite inframmettenze i depistaggi la disinformazione vanno a incidere su le alte funzioni degli appalti di governo di questo Stato non stiamo parlando di banalità stiamo parlando di una drammatica realtà che va oltre l'esistenza o meno di un contesto associativo che possa essere parificato ad un'organizzazione terroristica nel senso stretto del termine attenzione qui c'è uno scopo da raggiungere non una struttura da formare proprio perché la struttura da formare realtà c'era ed è quel sistema di cui più volte vi ho detto nel corso la mia requisitoria che non richiedeva né formali affiliazioni né riconoscimenti né pungiute di varia natura né rituali né santini né padrini né niente qui c'è gente che deve mantenere inalterato il ruolo baricentrico che ha sempre avuto in una condizione dalla quale sia possibile determinare le scelte di quelli che sono gli organi di governo di questa nazione attenzione e credetemi per quello che è l'altissimo progetto che è stato portato avanti costituire fisicamente un gruppo di soggetti facilmente riconoscibile era un problema è sempre un problema lasciare troppe tracce rispetto a quello che è un contesto operativo che non ha bisogno di etichette ha bisogno di risultati ha bisogno di obiettivi che siano raggiungibili questa è la premessa indispensabile per tentare di raccontarvi che cosa abbiamo capito noi rispetto a falange armata rispetto alla stagione stragista intesa in senso puramente criminale rispetto alla stagione stragista rispetto ai suoi sbocchi politici attenzione questi sono i piani e non potevano che essere riservati alla parte conclusiva del mio intervento anche e soprattutto perché come vedrete l'ultima rivendicazione significativa di falange armata prima di scomparire per circa vent'anni è quella di Polistena poi ve la leggo qui è riportata in maniera talmente piccola 4 febbraio 94 un dato però voglio fornirvelo subito perché ritengo che assuma peso decisivo nel momento in cui noi abbiamo riconnesso un peso decisivo a quelle statistiche che riguardavano le revoche e le mancate progore di 41 bis come ricorderette che si erano moltiplicate per 80 e per 120 in una determinata stagione non per due nel 1990 quando falange armata appare sullo scenario criminale politico italiano dopo l'omicidio dell'11 aprile 90 di lavoro che definire impressionante è poco che solo grandissimi professionisti potevano fare perché questo stato è anche formato da grandissimi professionisti tra le forze dell'ordine come il servizio centrale antiterrorismo come la DIA come la squadra mobile di Reggio Calabria come lo SCO e come tutti coloro i quali hanno dato un enorme contributo di verità per ricordare che noi siamo tutti carabinieri siamo tutti poliziotti siamo tutti finanzieri e che quelle vittime del 93 e 94 non sono morte in vano e allora abbiamo passato le giornate a leggere ad analizzare a cercare di capire e abbiamo capito che nel 1990 ci sono 18 rivendicazioni tra falange armata e falange armata carceraria come vi hanno spiegato in questa in questa lunga istruttoria tutti coloro i quali hanno ricevuto incarico di fare questo tipo di verifica nel 1991 e quello è l'anno in cui si spiega che falange armata carceraria è una divisione di falange armata e tutta una serie di particolari aggiuntivi secondo me di grande peso dimostrativo nel 1991 le rivendicazioni sono 10 FA falange armata nel 1992 sono 17 falange armata nel 1993 sono 16 nel 1994 sono 42 vi starete subito chiedendo ebbe in un anno 39 delle quali tra gennaio e febbraio sono fuori strada nel dire che gennaio e febbraio del 94 sia il momento in cui qualcosa deve succedere sono fuori strada nel dirvi come vi ho già detto che quello che ci dice Giuseppe Graviano trova conferma in questi numeri sbrighiamoci bisogna dare il colpo finale il colpo di grazia perché i calabresi si sono mossi non l'ho ringraziato formalmente Graviano per quello che ci ha detto nel corso del suo esame mi pare di sì perché ci ha spiegato che quel momento storico è un momento in cui la sua storia la storia di Cosa Nostra la storia dell'Andrangheta procede di pari passo alla storia del movimento politico che verrà annunciato il 26 di gennaio di quell'anno Forza Italia 39 su 41 nel gennaio e febbraio del 94 una sola nel mese di marzo come colpo di coda di quel periodo rispetto al 23 febbraio che era stata la penultima un'altra ancora il primo dicembre del 94 poi silenzio fino al 2013 con un messaggio rivolto indovinati a chi scuso col microfono a Totorina a Salvatore Rina non a me a Salvatore Rina falange armata si rivolge dopo 19 anni per dirgli che cosa caro zio Totò recluso all'epoca nel carcere di opera anche lui impegnato in una serie diciamo di chiacchierate con Alberto lorusso che sta a Rina come Umberto di Nolfi sta a Giuseppe Graviano chiacchierate intercettate di cui si era iniziato a parlare anche sulla stampa falange armata rinasce dalle sue ceneri si rivolge al capo dei capi di Cosa Nostra e gli dice Rina chiudi quella maledetta bocca i tuoi familiari sono liberi stiamo minacciando Totorina c'è qualcuno al mondo che è capace di minacciare Totorina strano pensavo che come ci hanno raccontato per anni in maniera fasulla e deviata non ci fosse nessuno sopra Totorina fasulla e deviata i tuoi familiari sono liberi attento che tu sei anziano e detenuto ma hai gente fuori che può fare una bruttissima fine al resto ci pensiamo noi 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 chi? punto falange armata l'avrà capito il messaggio l'ozio Totò voi che dite? avrà capito che quello che forse per una serie vuol dire di circostanze legate al tempo che passa e alla senilità che avanza che quello che stava dicendo ad Alberto Lorusso rischiava di aprire nuovi canali investigativi per andare a capire meglio quello che era successo in quegli anni tanto da spingere falange armata che ancora esisteva nel 2013 e voi siete sicuri che non esista oggi? zitto devi stare zitto perché hai gente fuori al resto ci pensiamo noi questa è la forza dimostrativa dell'analisi che si fa e questa è la forza dimostrativa da cui partire avete visto un dato asettico che volete che io vi illustri in questa sede qualcosa che vada di ulteriore diciamo qualcosa di ulteriore rispetto al dato asettico puramente numerico che vi ho fornito e certamente che lo farò ma lo farò soprattutto per indicarvi delle tappe che vi daranno la definitiva conferma di quanto tutto sia collegato attraverso quella sigla determinati progetti come in parte vi ho già detto quando vi ho richiamato cent'anni di storia in relazione a Dell'Utri e i suoi rafforti con i piromalli di cui Rocco Santo Filippona è soggetto di massima fiducia incaricato di rappresentare i piromalli nelle alte gerarchie visibili dell'Andrangheta e cioè quelle che poi concretamente danno gli ordini e no è perché le alte gerarchie invisibili e no quelli liberano la decisione in ambiti strategici di alto livello ma poi mica chiamano il picciotteggio di 18 anni e gli dicono spara e così il mondo finiva si legge proprio nelle tantissime intercettazioni di cent'anni storia è possibile affermare allora che Falange Armata è stata una sigla con la quale si sono per un verso rivendicati stragi delitti e attentati tra il 90 e il 94 non è questo il dato obiettivo no nasce il 11 aprile del 90 praticamente muore il primo marzo del 94 e poi si ripresenta con un messaggio secco a Salvatore Rina per i motivi che vi ho detto scusatemi il dato obiettivo è che nasce nel 90 e muore nel 94 o no questo per dire che ovviamente il dottore Lombardo notoriamente vaneggia quando individua determinate tracce ma a volte fortunosamente ci sono dati obiettivi che sostengono le sue visioni organizzati stragi delitti e attentati organizzati e materialmente eseguiti da soggetti non inquadrabili in una struttura che sia meglio catalogabile ma in un contesto operativo che agisce attraverso componenti mafiose di alto livello tendenzialmente infallibili perché non è colpa di Giuseppe Graviano se quel telecomando non ha funzionato immagino che cosa avrà pensato nel momento in cui gli hanno detto Giuseppe o un funzionario io non so voglio dire che tipo di reazione possa avere avuto nei confronti di chi aveva il ruolo diciamo di elettrotecnico in quella specifica vicenda dicevo un contesto operativo che ruota attorno alla necessità di commettere in danno di esponenti istituzionali di elevatissimo rango un'opera evidente pesante percepibile di profonda intimidazione dietro questa sigla vedete dov'è l'errore che non dovete fare non c'è niente di fantomatico ci sono persone ci sono persone che operano che eseguono che decidono che programmano che stabiliscono ci sono persone indipendentemente dal fatto se si sia o meno riusciti in sede giudiziaria a contestare un'ipotesi associativa o se invece i tentativi fatti dalla procura di Roma da questo punto di vista non sono arrivati a buon fine perché vi dico che lavorare su questo terreno non è facile per nessuno soprattutto se la ricostruzione che sei andato a fare non tiene conto di quelle manifestazioni mafiose che sono riconducibili a cosa nostra in drangheta ecco la nostra forza rispetto alla ricostruzione che porta soltanto a scalone che è condannato in primo grado poi viene assolto in via definitiva perché non aveva fatto determinate telefonate e allora andiamo a vedere questa nostra ricostruzione odierna di che cosa può beneficiare per andare a comprendere se anche per questa via noi riusciamo a dare forza a quello che ci dice Calabro a quello che ci dice Villani a quello che ci dice lo giudice per andare a ricollegare definitivamente senza dubbi la componente piromaglia a questo disegno attraverso la figura di Rocco Santo Filippone perché su Giuseppe Graviano mi pare che gli elementi di cui disponete sono sovrabbondanti per il ruolo che ha avuto prima e per il ruolo che ha avuto in relazione ai suoi rapporti con un contesto criminale calabrese che è stato sempre appannaggio della sua famiglia quell'intercettazione chiamiamola così in realtà è una registrazione in carcere in cui lui disperatamente prova a dire al nipote Michele solo voi mi potete salvare nella misura in cui sarete in grado di convincere i giudici che il telefonino che passa in Calabria il 17 dicembre 93 lo usava tua madre e non io è la confessione stragiudiziale di Giuseppe Graviano in relazione alla responsabilità che noi stiamo ricostruendo in questa sede e lui lo sa benissimo che è così lo sa benissimo che quella è una confessione stragiudiziale nella reiterazione che lui fa parlando con il figlio e con il nipote che non pisce ricorda di dire a tua madre che quel telefonino ce l'aveva lei hai capito chi dici zio chi dici che dici quando lo sappiamo perfettamente che quel telefonino ce l'avi tu tanto è vero che i carabinieri ci hanno raccontato che non avevano manco capito che c'era tuo fratello Filippo cioè mio padre quando vi hanno arrestato il 27 gennaio del 94 che dici che dici questo è il portato dimostrativo di quella registrazione sul versante calabrese vedrete ora nel momento in cui andrò ad analizzare tutto quello che accerta l'ambasciatore Fulci in quegli anni di che cosa ci stiamo occupando ora e che cosa ha vissuto questa nazione attorno a determinati accadimenti che ancora oggi insanguiano la pelle di tutti noi attenzione che la pelle insanguinata è quella di tutti noi non delle povere vittime indicate nei capi di imputazione attorno ai quali ruota questo processo e allora la natura è politico terroristica in un ambito in cui operano componenti mafiose di altissimo livello per una finalità che non poteva essere apertamente dichiarata quella di ricattare le istituzioni di questo stato e serviva a creare un clima nel paese evidentemente favorevole alle finalità che poneva in essere le azioni criminali e dello stesso gruppo che si nascondeva e che aveva inventato questa sigla e il clima che voleva crearsi era un clima di terrore e il clima che è stato creato è stato un clima di terrore l'intenzione di attribuire ad un'organizzazione terroristica la responsabilità di una serie di fatti anche gravissimi di sangue aveva un pubblico ordine di ragione la prima era scontata ed era strumentale rispetto alla seconda che è l'inevitabile conseguenza degli atti terroristici ed era quella come si è detto di far piombare il paese in un clima di terrore che generasse instabilità politica e sociale la seconda ragione che è la vera ragione dell'azione diretta a far convergere sulla fantomatica falange armata la responsabilità della serie di delitti sopraindicati in una strategia raffinatissima che poi vi indicherò che passava anche dall'esigenza per le mafie di non perdere il consenso costruito negli anni attenzione perché c'era anche questo sullo sfondo possiamo in primo luogo escludere che questa seconda ma vera ragione fosse legata a sia pure esasperate estremistiche ed aberranti motivazioni politico-ideologiche se così fosse stato come viene in tutti i casi di gruppi terroristici autenticamente ideologizzati sarebbero stati gli stessi soggetti che operavano dietro la sigla a commettere stragi e delitti per poi rivendicarli e invece non è così vi chiederò poi una brevissima pausa ciò invece non avvenne in alcun modo nel momento in cui appare Falange Armata e le sue rivendicazioni cioè Falange Armata ha una componente operativa che sono le mafie non ha una componente operativa diretta come altre organizzazioni terroristiche o pseudotali la Falange Armata quindi utilizzava le stagge e gravissimi delitti commessi da altri nel senso di altre componenti di quel sistema per rivendicarli e mandare messaggi a chi doveva capire chi utilizzava Falange Armata quindi perseguiva finalità ben precise che non erano certo di natura economica che non erano certo finalità banalizzabili ove riferite a vantaggi immediati che non fossero inseriti in una strategia ben più sofisticata non erano neanche per le ragioni che abbiamo detto vantaggi esclusivamente ideologici perché a Falange Armata è il sistema in cui Falange Armata si inserisce e opera l'ideologia interessa pochissima non era una sigla che evocava fanatismi di varia natura né religiosi né di altra matrice e quindi escluse quelle che possono essere astrettamente altre finalità sportive sentimentali o sataniche altre non me ne sono venute però siete liberi di arricchire l'elenco rimane una sola possibile plausibile finalità quella altamente esquisitamente politica politica non intesa in senso ideologico ma quale espressione di un'esordida inaccettabile vomitevole lotta per il potere questo è non c'è altro rispetto all'inquadramento che voi dovete dare perché le mafie sono componenti di questo sistema di potere facciamo però un'ulteriore conservazione perché non ci sottraiamo a nulla proprio perché io non sono qui a rappresentare una parte privata io rappresento lo Stato e lo Stato non ha propositi di vendetta nei confronti di nessuno noi abbiamo soltanto esigenze di giustizia la stessa capacità di intimidire di condizionare di chi stava dietro la sigla falange armata la stessa serietà della minaccia falange armata e quindi la stessa capacità di chi utilizzava quella sigla di perseguire le proprie finalità era collegata in modo diretto ed immediato alla gravità di quelle azioni che venivano rivendicate e cioè se si voleva ottenere uno scopo alto di intimidazione e non si poteva far esplodere una Minerva davanti a una stazione dei Carabinieri o una compagnia o un comando provinciale o nei dintorni dell'Olimpico dove pezzardi beppi un grossi di una Minerva esplodevano ogni domenica e no e chi fa la bombetta no il periodo natalizio forse e neanche e quindi già nel suo momento genetico che è un momento antecedente alla stagione stragista in senso stretto del termine chi aveva ideato questa strategia se non intendeva solo giocare e mi pare che non abbiano giocato non poteva non attuarla attraverso contatti relazioni intelligenze finalizzate a rafforzarne quell'intendimento con chi era in grado perseguendo lo stesso interesse di scatenare e poi questo avveniva in realtà una vera e propria stagione terroristico mafioso mafiosa in questo paese attenzione si poteva fare a meno di Cosa Nostra in un disegno del genere perché diventasse una guerra totale si poteva fare a meno dell'Andrangheta non credo proprio soprattutto nel momento in cui Andrangheta e Cosa Nostra avevano lo stesso interesse di mantenere un ruolo centrale negli assetti di potere che governavano condizionando questo Stato questo è e quindi si poteva programmare e strutturare una complessa strategia di minaccia e rivendicazione in quanto si era trovato e quindi si era discusso all'interno dello stesso sistema qualcuno che doveva poi concretamente eseguire quello che andava rivendicato perché se no tutto diventava una barzelletta ecco l'attività di analisi per estrapolare le rivendicazioni reali nell'insieme enorme di rivendicazioni fasulle bisognava fare rumore ci raccontano Cannella Calvaruso nel momento in cui ci riportano le frasi di Leoluca Pagarella decisive per tutti noi quando Leoluca Pagarella a contatto con i suoi uomini di massima fiducia dice mi hanno chiesto di fare rumore burdello avrebbero detto o fossero stati in Calabria eh ora lo vedremo in quali passaggi questo si ricava e quindi questo rumore questo sciame anche voglio dire stragista che cresce monta che si contestualizza su determinati obiettivi che in qualche modo si arricchisce anche di false rivendicazioni spesso emulative non deve farci dimenticare che esisteva un fenomeno di grande rilievo criminale che era reale reale sono morte decine 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 di persone tutto questo è reale e doveva esserlo se si voleva in qualche modo ottenere lo scopo prefissato e se tutto questo era reale perché l'intendimento indipendentemente da quello che ci dice Giuseppe Graviano indipendentemente da quello che dice Giuseppe Graviano intercettato mentre parla con Adinolfi indipendentemente da quello che ci dicono decine e decine di collaboratori di giustizia tutto è finito nel febbraio del 94 perché? perché come dice Gaspare Spatuzza Graviano mi disse abbiamo il paese nelle mani punto ecco la rabbia che non volete che si è arrabbiato ma abbiamo il paese nelle mani ho dato indicazioni agli amici calabresi hanno iniziato a sparare poi di default sono andati anche poco oltre la mia cattura perché fino a quando gli è stato detto basta quello gli aveva dato l'incarico a Calabro Calabro voglio dire era partito come un treno perché quello che faceva lo sapeva fare lo sapeva fare bene e infatti poi Totò gli ha dato dire basta Giuseppe basta ci hanno detto basta basta perché intanto cerchiamo di capire se con la cattura di Giuseppe Graviano ci dobbiamo fermare oppure no e quindi non è che catturato Giuseppe Graviano in automatico il disegno viene meno quando il disegno non riguarda soltanto lui e mi pare evidente ecco perché prosegue per pochi giorni il programma in Calabria quando ovviamente anche la componente calabrese viene avvisata che in quel momento le esigenze che avevamo portato a quegli agguati sono venute meno fermatevi fermiamoci perché ora si apre il tempo delle risposte che mi pare di capire da quello che ci dice Giuseppe Graviano non sono arrivate o non sono arrivate come lui si aspettava visto che definisce mi pare con chiarezza Silvio Berlusconi un traditore o lo definisco io un traditore poi le vedremo le intercettazioni e visto che il 14 marzo del 2017 parlando di chi lo aveva tradito e che gli stava facendo fare il carcere a un certo punto dice io sto pagando va bene ma l'autore è lui l'autore lui dice il 14 marzo del 2017 in una intercettazione che Graviano non ha mai smentito anzi ne ha confermato il contenuto insieme a tutte le altre rispondendo alle prime domande che sono state fatte nel corso del suo esame l'autore lui per poi aggiungere ce l'ho davanti ma credetemi questa è la nostra vita è come se io la conoscessi a memoria per poi aggiungere è attradito per una questione di soldi di soldi così dice Graviano intercettato il 14 marzo del 2017 parlando di Berlusconi e quindi qual è il filo sul quale ci dobbiamo intrattenere è il filo tracciato dalle rivendicazioni è il filo tracciato dall'omicidio formile dalla riunione di Enna dalle parallele riunioni in Calabria dalle dichiarazioni di Cannella di Avola di Malvagna di Foschini di Cuzzola e sul copyright dell'Andrangheta attenzione il copyright dell'Andrangheta perché in tutto questo scenario non dimentichiamoci mai quello che ci raccontano Cuzzola Foschini e i collaboratori di giustizia che nascono crescono e vivono accanto a Mico e Antonio Papalia oltre che a Franco poco trovato quando ci spiegano chi gli suggerisce la rivendicazione falange armata in relazione all'omicidio mormile lettura complicatissima perché è una lettura in cui in ogni istante si corre il rischio di scivolare sul sapone tant'è vero che è talmente complicata questa lettura che la corte d'assise di Milano non si sente di farla leggendo le sentenze sull'omicidio mormile voi avrete la conferma di quello che vi sto dicendo nella misura in cui la corte d'assise capisce che sullo sfondo c'è un qualcosa verifica che questo qualcosa però non è stato ricostruito in sede istruttoria e vira su una soluzione assolutamente percorribile e corretta sulla base dei principi giurisprudenziali fissati dalla suprema corte nel momento in cui ti dice guarda dell'accertamento del movente non è obbligatorio è certo che non è obbligatorio l'hai beccato con la pistola fumante nelle mani puoi anche non andare ad accertare perché lo ha fatto lo ha fatto punto e basta ma in uno scenario del genere non è una risposta soddisfacente e non lo è perché quando noi poi andiamo a mettere insieme tutti i pezzi e ricostruiamo diciamo quello che va oltre il singolo episodio noi torniamo a vivere in un contesto in cui i protagonisti sono i protagonisti negativo della storia d'Italia e non è una cosa da poco e quindi facendo un brevissimo passo indietro per poi tornare a fare un passo in avanti e tornare a spiegare come nasce la sigla falange armata perché voi la fase genetica è quella e non è messa in discussione da nessuno dobbiamo ovviamente contestualizzare tutta una serie di accadimenti che ruotano attorno a tutti quei richiami che vi ho fatto all'inizio di questa parte della mia esposizione Calabria Sicilia politica eversione piduismo alta massoneria deviata componenti mafiose radicali pezzi di istituzioni in un unico grande sistema che aveva senso e diventava operativo perché Drangheta è cosa nostra quella operatività gliela garantivano ad alto livello perché se no era un circuito che era poco più di una bocciofila e invece noi abbiamo subito un attacco terroristico mafioso sul quale non abbiamo bisogno di conferme ricordatevi un dato e questo dato ruota attorno ancora al fatto che Leo Luca Bagarella davanti ad un vecchio televisore che si trovava in una stanzetta a lui riservata da latitante nel villaggio Euromare dei fratelli Graviano guardando la televisione prima ancora che la televisione facesse determinati riferimenti diceva a Tulio Cannella ora vedrai che rivendicheranno falange armata e saremo iscritti allo stesso club di quelli che magari perché mangiano pesante e non è il mio caso purtroppo ad un certo punto sulla digestione cominciano a vaneggiare e questo Bagarella lo dice a Cannella con netto anticipo rispetto a poi quella che sarà la rivendicazione effettiva di falange armata e quindi il comportamento di Bagarella come c'è stato descritto da Cannella può essere tranquillamente esclusivamente riferito a quello di un soggetto che sa quello che c'è dietro e soprattutto di un soggetto che pur non dovendolo probabilmente fare lo fa con un uomo di cui ha fiducia a cui aveva affidato la gestione dei movimenti separatisti per compiacersi insieme a lui della circostanza che un piano una strategia a lui ben nota si sta effettivamente realizzando anche i grandi capi non solo sbagliano ma cedono ad una forma di egocentrismo che a volte dissemina di tracce che poi qualche processo rimette a posto e che il piano ovviamente su cui si muove Bagarella raccontato da Cannella da Calduso sia il piano che ci porta al 14 maggio del 93 poi rivendicato il 15 maggio del 93 attraverso una serie di telefonate come falange armata la mattina del 27 maggio del 93 dopo la strage dei gergofili a Firenze più telefonate dell'Ansa rivendicano l'attentato a nome falange armata dopo gli attentati di Roma del luglio del 93 in Milano furono effettuate telefonate di rivendicazione a falange armata ci dicono che quello che ci raccontano collaboratori di giustizia di alto livello come Salvatore Grivoli Pietro Romeo confermano che cosa nostra nella persona di un uomo del Graviano tale Giuliano Francesco detto Livetti avevano rivendicato con la sigla falange armata gli attentati continentali mi chiedo una brevissima pausa poi possiamo proseguire va bene facciamo una breve pausa per Bari Eterni un quarto d'ora o meno sì sì va benissimo va bene un quarto d'ora va bene gli imputati ci sono i loro difensori pure non vedo l'avvocato Suraci vabbè mettiamo lei provvissimamente dottoressa Marino dobbiamo dare atto della presenza della parte civile Fava Ivana abbiamo dato prego pubblico ministero possiamo riprendere è di grande rilievo quello che ho appena riferito al contributo dichiarativo di Salvatore Grigoli e di Pietro Romeo proprio perché ci consente di soffermarci su aspetti già in parte esplorati ma che a mio modo di vedere meritano più attenta considerazione su quello che era il compito affidato da alcuni uomini di Cosa Nostra guarda casa anche questi riferibili ai Graviano di rivendicare utilizzando la sigla falange armata gli attentati già consumati vedremo che soltanto in un caso e anche questo non può essere considerato una circostanza priva di significato la rivendicazione anticipa l'attentato e vi dirò poi in quale occasione e non è una delle tante occasioni regoli salvatore a un certo punto ci spiega che qualcuno doveva capire subito che c'eramo noi intesi noi come sistema che va oltre Cosa Nostra dietro quegli attentati ma non doveva essere immediatamente visibile la nostra presenza la nostra mano come ci spiega e qui ci dà conferma rispetto all'indicazione che proviene da più fonti investigative da ultimo confermata diciamo nel momento in cui abbiamo esaminato Massimo Cappotella che l'incontro tra Graviano e Spatuzza nel Bardonei avviene il 21 di gennaio perché è lo stesso Grigoli che a un certo punto precisa di aver visto Giuseppe Graviano a Roma in una villetta vicino al mare in una località nei pressi di Roma che si chiamava Torvaianica e quindi conferma il dichiarato di Spatuzza un giorno forse due giorni propendo più per due giorni prima di quello che era il giorno del fallito attentato olimpico e quindi anche Grigoli ricollega Graviano la presenza in Roma alla data che noi abbiamo ricostruito già nel dettaglio in questa sede e ricorda ancora un altro particolare che ci viene confermato in questa sede dallo stesso Graviano quando ci riferisce che all'incontro nel Villino con Giuseppe Graviano lo stesso Graviano disse che bisognava concludere in fretta e portare a compimento immediatamente l'attentato all'Olimpico dicendo che bastavano quattro persone per fare l'attentato e che le altre potevano già rientrare in Sicilia vedete quante conferme univoche su quelli che sono i dati centrali della nostra ricostruzione dallo stesso dichiarato di Romeo Pietro si ottengono conferme su questo fronte tanto in relazione al ruolo di Giuliano quanto in relazione al ruolo di Lonigro quanto in relazione al ruolo di Spatuzza quanto in relazione al ruolo che doveva necessariamente innestarsi sulle rivendicazioni a nome Falange Armata ed è lui che precisa le confidenze che ottiene dal Giuliano quando il Giuliano gli spiega che seppure le stragi erano state volute per affivolire il regime di carcere duro contro la criminalità organizzata e per avere più in generale dallo Stato un migliore trattamento tuttavia non si voleva che le stragi fossero immediatamente riferibili a Cosa Nostra non si voleva che emergesse immediatamente il coinvolgimento di Cosa Nostra anche e soprattutto perché non era coinvolta solo Cosa Nostra e quindi il messaggio che doveva arrivare negli ambienti che contano doveva essere un messaggio sufficientemente chiaro perché adesso torniamo a fare il passo in avanti che vi avevo preannunciato prima perché se non rispondiamo alla domanda di fondo che ruota attorno alla nascita della sigla noi non solo non siamo in grado di effettuare valutazioni definitive su tale contesto ma soprattutto non percepiamo quanto il ruolo dell'andrangheta fosse un ruolo imprescindibile vi dico subito che una ricerca storica noi l'abbiamo fatta perché nel momento in cui siamo andati a sentire chi era in grado di raccontare cosa era avvenuto intorno attorno all'omicidio dell'educatore penitenziario Umberto Mormile l'11 aprile del 90 ha dovuto rispondere a delle nostre domande e sinceramente io e il collega Curcio eravamo preparati fino a un certo punto dove fossimo stati noi gli interrogati a rispondere come poteva in qualche modo inquadrarsi il fenomeno falangista e gli approfondimenti che abbiamo fatto proprio per andare a riempire di significato quello che Rina dirà a partire dal giugno del 91 nel corso della riunione di Enna e quello che i papali avevano già fatto più di un anno prima in relazione all'omicidio dell'ormile siamo andati a verificare come potesse essere contestualizzato quel riferimento alla falange armata e soprattutto da chi potevano aver avuto ispirazione i papalia perché i papalia ci risultavano sì una famiglia di indranghede di alto livello ma poco più che scolarizzati anzi dicono alcuni collaboratori di giustizia di un'ignoranza abissale anche se dotati di una mente criminale certamente riconosciuta i falangisti più immediati o meglio i fenomeni falangisti temporalmente più vicini a noi sono quelli franchisti ancora ritroso poi nella memoria scritta avrete più dettagli su questo ancora ritroso dobbiamo fare riferimento ai nostri studi classici per tornare alla falange macedone o a tutta una serie di riferimenti che hanno a che fare con quel tipo di impostazione militare sinceramente era difficile immaginare che un Mico Papalia un Antonio Papalia un Franco Cocotrovato o i soggetti che gli ruotavano intorno potessero diciamo nel momento in cui dovevano depistare nella loro nella loro percezione di un fatto grave che era quello di aver ucciso Umberto Mormile potessero dire attingere a questo tipo di conoscenze e infatti la vera risposta poi sul punto ce la fornisce Filippo Malvagna oltre che Cuzzola e Foschini come da qui a breve vedremo insieme nel momento in cui ci dice Malvagna che le riunioni strategiche di Enna del 1991 avevano uno scopo ben preciso dovevano servire a programmare un forte scossone allo Stato innescando una spirale del terrore che era la spirale del terrore di cui aveva già parlato Leonardo Messina per precisare dice Malvagna che secondo il racconto che lui aveva ricevuto dallo zio Pulvirentium Alpassotu i Corleonesi e in particolare Totorina dissero che tutto quello che si sarebbe fatto nel contesto stragista sarebbe stato rivendicato falange armata mio zio Pulvirenti dice Malvagna mi disse per farmi comprendere a cosa ludesse che bisognava fare come in Colombia dare dove i trafficanti di cocaina quando erano stati attaccati con misure repressive dallo Stato colombiano avevano reagito con sigle riferibili a contesti eversivi per colpire la Dea e gli americani che contrastava i traffici di stupefacenti ponendo in essere sotto mentite spoglie una serie di attentati terroristici che potessero indurre lo Stato a più miti consigli e questo riferimento non è un riferimento da poco perché le dinamiche criminali non sono esclusivamente italiane o nostrane il contesto criminale lo abbiamo già detto varie volte è un contesto criminale che si muove su uno scenario globale con dinamiche che vanno oltre i territori di origine ma soprattutto che parlano un linguaggio comune e qual è questo linguaggio comune? è il linguaggio di chi persegue obiettivi definiti chiari ecco perché vi dicevo la chiave di lettura da dare a questi riferimenti non è semplicissima ma è evidente intanto vi è un'esigenza fondamentale per le mafie non perdere consenso quella che loro definiscono la necessità di mantenere la base e cioè non apparire come soggetti che attaccando lo Stato palesemente diventano l'obiettivo della risposta immediata dello Stato che genera povertà nei livelli più bassi dell'organizzazione e questo fa perdere consenso e quindi nella lettura di base un tipo di approccio del genere è evidentemente autodistruttivo e non porta a niente nella lettura invece più sofisticata che siamo chiamati a fare in questa sede l'esigenza da coltivare quella alta era di due tipi la prima mandare messaggi come vi ho detto più volte a chi doveva capire la seconda nascondere la loro presenza per non generare disapprovazione nei livelli più bassi della struttura criminale che in questo caso non avrebbe preteso nessuna spiegazione perché vi immaginate Drangheta è cosa nostra che col marchio in fronte attaccano lo Stato quale comportamento che necessariamente genera anche nei livelli non apicali la necessità di capire nessun obiettivo era possibile raggiungere con i livelli bassi che chiedevano che stiamo combinando anche perché quei livelli bassi sono anche quei livelli in cui spesso e volentieri si inseriscono percorsi di collaborazione che avrebbero immediatamente fatto emergere un disegno che invece doveva essere mantenuto come un disegno alto riporterò nella memoria tutto uno schema sul punto che servirà a capire meglio il parallelismo tra gli accadimenti di cui stiamo parlando e le rivendicazioni che abbiamo registrato e soprattutto riporterò il contenuto di quelle rivendicazioni che non è un contenuto banale ma è un contenuto particolarmente sofisticato ovviamente in questa sede mi soffermerò soltanto su alcuni aspetti per dirvi ancora che per forza di cose se il quadro che stiamo ricostruendo è un quadro reale noi abbiamo a che fare con soggetti che fanno parte di un sistema che va oltre la componente mafiosa non particolarmente attrezzata dal punto di vista culturale che suggerisce la sigla da utilizzare e l'idea di rivendicare minacce e tentate delitti contro le figure istituzionali con la sigla falange armata è stata certamente il parto di alcuni appartenenti a strutture deviate dello Stato il cui nucleo forte era costituita da una frangia dell'allora sismi e segnatamente da alcuni esponenti della settima divisione e del cosiddetto reparto Ossi che fino alla caduta del muro di Berlino e fino a pochi mesi dopo si occupava delle operazioni stay behind che evidentemente volevano destabilizzare il paese creando un allarme terroristico da sfruttare per mantenere il proprio ruolo in uno scenario che era profondamente mutato avevano operato per anni agli ordini di Gelli e suggerirono alla criminalità mafiosa in primis all'andrangheta di rivendicare l'omicidio mormile utilizzando una sigla all'oro ben nota che era falange armata per poi estendere questa sigla anche alla componente riferibile a Cosa Nostra nel giugno del 91 è proprio all'estate del 1991 che ci rifacciamo quando è necessario poi individuare gli incontri da cui nasce la fase operativa di tutta la complessiva stagione stragista che come abbiamo visto poi attraversa varie epoche qual era in soldoni la strategia di attacco allo Stato e quali erano i suoi passaggi chiave intanto bisognava operare in modo tale da creare sconcerto nell'opinione pubblica che avrebbe manifestato sfiducia verso chi aveva il compito di mantenere l'ordine pubblico bisognava indebolire di conseguenza le forze politiche al potere rendendole da una parte malleabili e dall'altra ricattabili bisognava impedire che gli attentati fossero immediatamente attribuniti dall'opinione pubblica alle mafie infatti di fronte a un ricatto dichiarato e firmato dalle organizzazioni mafiose nessun governo avrebbe dialogato su argomenti che non erano trattabili anzi di fronte ad un attacco dichiaratamente mafioso si sarebbe registrata una reazione forte dell'opinione pubblica di sdegno che avrebbe portato a reazioni forti anche da parte degli apparati statali Giuseppe Graviano e gli altri questo lo sapevano e aveva capito insieme agli altri l'importanza di non far ricollegare gli attentati a Cosa Nostra tant'è vero che come ci ha detto Spatuzza non volle utilizzare lo stesso esplosivo per uccidere Contor perché sapeva di non dover di non poter dare chiavi di lettura immediate rispetto alla presenza della componente mafiosa dietro a quelle sigle e dietro a quella stagione e lo fece perché sapeva di non avere in quel momento esplosivo diverso che potesse essere utilizzato nei confronti di contorno senza collegare l'attentato a contorno alle stragi continentali e quindi l'esigenza forte che si avvertiva e che ruotava intorno alla necessità di rivendicare utilizzando la sigla falange armata non era una trovata bislacca o cervellotica dei soggetti di vertice delle mafie ma rispondeva perfettamente alle loro esigenze strategiche era stata approvata da Cosa Nostra nel lontano 91 ad Enna e il loro concreto attuarsi era stato palesato in occasione delle stragi continentali nel momento in cui Leo Luca Bagarella anticipa ai suoi interlocutori quella che sarà la sigla che verrà utilizzata questa e la lettura che siete chiamati a fare valorizzando l'apporto dichiarativo di Emanuele di Filippo nel momento in cui crea un parallelismo importante con i papalia attraverso la figura di Nino Gioè quel Nino Gioè che morendo il 28 luglio del 93 guarda caso un giorno dopo le stragi continentali lascia nella sua ultima lettera un riferimento proprio a Mico Papalia nella parte in cui dice di Filippo Lupo Cesare mi parlò di collegamenti fra Leo Luca Bagarella e ambienti istituzionali deviati in pratica il Lupo proprio mentre ci trovavamo a Lucciardone parlavamo di pentiti mi disse che Leo Luca prima o poi li avrebbe individuati grazie alle informazioni di cui disponeva che provenivano dai servizi segreti le stesse informazioni di cui disponeva Domenico Papalia che nel momento in cui viene scoperto nelle sue relazioni da Umberto Mormile ne ordina l'omicidio così ci raccontano Foschini e Cuzzola dandoci particolari di altissimo spessore alle dichiarazioni di di Filippo si collegano quelle di Giuseppe Ferro quando Giuseppe Ferro dice io ho saputo tutto quello che ruotava intorno a quella stagione e ho saputo che qualcuno ci chiese di fare rumore di fare scruscio dice tecnicamente dice letteralmente Giuseppe Ferro ecco io in questa frase dice Ferro capisco che vi era un canale non so di che genere se politico estero o di altra natura che voleva che Cosa Nostra facesse certe cose in un certo modo in un certo modo nel senso di modo eclatante mi chiedete se feci domande per capire qualcosa di più e io vi rispondo che io ero uno importante ad Alcamo ma non ero Leo Luca Bagarella non ero uno dei grandi capi di Cosa Nostra però questo lo ricordo con grande nettezza e soprattutto non potevo fare domande su questi argomenti perché chi fa domande su questi argomenti muore e noi abbiamo la prova che si muore quando si toccano certi fili e la prova ce la fornisce Armando Palmeri quando ci racconta la fine che ha fatto Vincenzo Milazzo e non soltanto lui ma anche la sua compagna Antonella Bonomo incinta quando a seguito di una serie di incontri nella zona del Milazzo che sempre Alcamo con appartenenti ai servizi di sicurezza gli chiesero di attentare alla vita delle persone perché bisognava destabilizzare l'Italia e uscendo da quegli incontri che furono tre come ricorderete Milazzo dice al suo autista Armando Palmeri non ho detto sì e non ho detto no perché gente a cui no non si può dire ma il mio scetticismo lo pagherò con la morte sparato da Nino Gioè per non farlo soffrire come vi ho raccontato la volta scorsa collegando tutte queste circostanze vedete che l'esigenza di fare rumore è un'esigenza che passa dal necessario coinvolgimento della componente mafiosa in un disegno di questo tipo ecco ecco perché Palmeri diventa importante perché Palmeri attenzione ci dice che questi incontri avvengono prima ovviamente della morte del Milazzo che viene ucciso nell'estate del 92 in un'epoca in cui inizia davvero la fase operativa che poi passa alle decisioni assunte ad Enna ma come vedete accanto diciamo alla strategia stragista propria delle organizzazioni criminali si registra il contatto in una fase non sospetta proprio perché è perfettamente coincidente a quella che è la ricostruzione che stiamo portando avanti di soggetti che vanno a parlare con un esponente di primo piano di Cosa Nostra per proporre l'uccisione di persone di civili per provocare effetti destabilizzanti e quindi evocare una matrice terroristica addirittura si dice discutendo della possibilità di inquinare dal punto di vista batteriologico l'acquedotto di Firenze proposta respinta dai proponenti che Palmeri riferisce ai servizi di sicurezza deviati nel momento in cui quella sarebbe stata poi una situazione che andava fuori controllo ma voi pensate che cosa poteva significare attaccare batteriologicamente l'acquedotto di Firenze no? in quell'occasione dice sì noi dobbiamo fare scruscio ma dobbiamo sempre essere noi dominus della situazione non è che la situazione è poi batterica o virale visto che siamo in tempo di covid poi ci prende la mano e il protagonista diventa il virus o il virologo il protagonista sono io e per tenere sotto controllo la mia strategia io ho bisogno di attività di tipo tradizionale perché tutto questo è importante perché Palmeri a un certo punto che cosa vi dice vi dice che Milazzo grande capo mafia esce da quegli incontri terrorizzato e dice Armando io non sono niente rispetto a questi la vera mafia sono loro e questo non significa che sono loro quei due che sono venuti a trovarci utilizzando un'autovettura presa a noleggio che Palmeri prova a seguire ma che non riesce ad inseguire e che risultava noleggiata effettivamente quel giorno a favore di uomini senza nome attenzione significa che quei due emissari sono la proiezione relativa a quegli incontri di un sistema che è molto ampio e collaudato nel momento in cui si inizia a discutere di quella che sarà la stagione stragista rivendicata attraverso quella sigla milazzo muore davvero e per il rischio che avesse rivelato il contenuto di quegli incontri anche alla compagna che era parente mi pare di un carabiniere o di un poliziotto muore anche Antonella Bonomo incinta perché toccare questi argomenti comporta un esito scontato e sarebbe morto verosimilmente milazzo in una condizione del genere anche se avesse detto sì che poi voglio dire i riferimenti di Firenze diventeranno riferimenti concreti in relazione alla strage di via del Giorgofili a mio modo di vedere non è certamente causale nel momento in cui Peppe Ferro ci spiega e Peppe Ferro è un collaboratore di primissima fascia anche difficile da interrogare perché sono quei collaboratori di giustizia che dicono nel momento in cui fanno una scelta di vita sempre la verità non aggiunge suggestione non aggiunge niente se è no è no se è sì è sì e lo avete sentito come parla ma spiega il riferimento a Firenze non è casuale perché effettivamente io avevo parenti a Firenze e mi chiesero di muovermi in quella direzione quindi nulla accade per caso se come è vero è una strategia ampiamente pianificata Cannella Ferro di Filippo Palmeri Malvagna Avola signori quanti io chiedo quanti devono essere i collaboratori di giustizia a dire all'unisono determinate cose prima di convincerci che noi abbiamo vissuto una stagione stragista non solo drammatica ma univocamente riferibile ad un sistema criminale che va oltre le mafie quanti se qualcuno mi dice quanti sono io vi prometto che continuo a cercare i collaboratori di giustizia in grado di raccontarci quello che è successo fino a quando non avrò superato quel numero proprio perché quando parliamo di accadimenti reali come vi ho detto all'inizio vivendo un eterno presente arrivare alla verità piena è solo una questione di tempo in tutto questo dobbiamo tornare all'undici aprile eh sì perché adesso il versante calabrese è il versante che ci consente di avere la risposta finale anche in relazione a Milazzo a quegli incontri a Falange Armata a quello che è Deciserina a quello che sapeva Bagarella a quello che ha fatto Giuseppe Graviano e a quello che è avvenuto in quegli anni perché? perché l'undici aprile ve l'ho detto del novanta viene ucciso Mormile poi arrivano una serie di rivendicazioni già il giorno stesso poi il 22 maggio appare per la prima volta Falange Armata Carceraria è in un'epoca che è fortemente caratterizzata da quella fase preliminare che dipende dagli accadimenti politici dell'autunno 89 ecco perché noi parliamo di 90-94 ma facendo riferimento alla disgregazione di un determinato tessuto che risale al crollo del muro di Berlino perché quello è l'accadimento disgregante su cui tutto si innesta per arrivare attenzione a dirvi che Falange Armata sospende le sue rivendicazioni il 22 maggio del 90 e anche i silenzi di Falange Armata come 19 anni di cui parlavamo prima hanno un peso fortissimo in questa sede e riappare il 27 ottobre dello stesso anno e voi mi direte sarà un caso si saranno fatti le ferie durante l'estate e dice ora che anche settembre è passato torniamo a farci sentire e non è così e non è così Falange Armata riappare perché la rivendicazione del 27 ottobre del 1990 in cui si parla nuovamente dell'omicidio mormile va ricollegata a quello che è successo il 24 di ottobre di quello stesso mese quando il presidente del consiglio dei ministri Giulio Andreotti ha svelato in Parlamento l'esistenza di Gladio e delle operazioni stay behind tutto questo nelle sentenze di Milano su un mormile non c'è e ve l'ho già detto prima perché la corte non ce li aveva certi elementi una certa analisi non era stata fatta anzi si era creduto che Falange Armata fosse stata una trovata dei Papalia per andare ad allontanare da sé tutta una serie di responsabilità perché non dimenticate e questo ce lo dicono Foschini Cuzzola con grande chiarezza mormile muore non perché non aveva un rapport perché aveva un rapporto con Mico Papalia che partiva dal carcere di Parma all'epoca interessato da una serie di ispezioni interne perché c'era una situazione che poi portò a conseguenze anche giudiziarie ma perché spostato Papalia ad opera e trasferito ad opera anche mormile ad un certo punto le insistenze di Papalia per avere tutta una serie di benefici si scontrarono con una reazione di mormile che ovviamente teneva conto di quelli che erano stati gli accertamenti dispettivi svolti a Parma e mormile gli disse basta basta non chiedere più perché io contrariamente a te non sono un uomo dei servizi morto morto subito ha capito subito Mico Papalia questo è fuori controllo questo è pericoloso Antonio organizza l'omicidio Antonio è il fratello di Papalia perché ha fatto riferimento al fatto che io sia un uomo dei servizi e che Mico Papalia avesse rapporti con i servizi di sicurezza ce lo racconta anche Nino Fiume quando ci parla della visita di Giuseppe De Stefano accompagnato dal fiume a Platì visita in cui incontrano Mico Papalia a colloquio con uomini dei servizi come Mico Papalia gli riferisce e soprattutto a contatto con ambienti che portavano e qui vi richiamo l'ultima decisiva testimonianza del dottore Di Stefano con il generale Delfino e trovate le tracce di quello che vi dico nelle risultanze probatorie appena richiamate guarda caso quel generale Delfino che vive a pochi chilometri di distanza da quel lago d'Orta dove i fratelli Graviano sono latitanti per molto tempo è lui quel generale lì che le cronache giudiziarie hanno più volte indicato come soggetto che effettivamente in certe vicende aveva avuto un ruolo vedete come si abbinano le figure di vertice di tutto questo sistema vedete come i fratelli Papalia cioè il vertice dell'Andrangheta non solo in Lombardia ma complessivamente considerata attraverso il loro uomo di fiducia Franco Cotrovato si abbinano ai vertici di Cosa Nostra alle Luca Bagarella e a Giuseppe Graviano in un disegno in cui nello stesso sistema ecco perché lì io starei particolarmente attento nell'indicare come suggerimenti esterni i suggerimenti che riguardano falange armata nello stesso sistema e non mi interessa dal punto di vista giuridico meglio qualificare se da intraneo o da suggeritore esterno non mi interessa in questa sede perché in questa sede io mi soffermo sugli imputati la cui posizione è portata e sottoposta al vostro giudizio ma nello stesso sistema queste figure si muovono come se fossero una cosa sola con grande coerenza operativa perché ve l'ho detto per sciogliere questo nesso voi dovete trovare un argomento talmente convincente da poter dire perché Totorina potendo inventare qualsiasi altra sigla e la fantasia a chi gli ruotava intorno non mancava che potesse evocare scenari pseudo terroristici non inventa una sigla qualsiasi che poteva essere anche un insieme di iniziali puntate e decide che la firma è falange armata perché anche a lui come era successo con i papalia arriva questa indicazione e che sia arrivata questa indicazione i papalia come vi dicevo prima ce lo dicono Foschini Vittorio e Nino Cuzzola Foschini quando dice ora che ci rifletto bene Domenico Papalia aveva colloqui continui con i servizi saranno quegli stessi colloqui che sono stati tentati con Graviano come Graviano ci ha raccontato non lo so e sinceramente in questa fase della ricostruzione poco mi interessa mi interessa che Foschini dice aveva colloqui continui con i servizi è soprattutto precisa che Antonio Papalia come disse a me a Flachi a Cuzzola a Cocotrovato e ad altri parlò con i servizi che dando il nulla osta all'omicidio attenzione attenzione dando il nulla osta all'omicidio poi ci dissero e dissero ad Antonio Papalia che andava rivendicato falange armata perché nulla osta all'omicidio assenso nel contributo dichiarativo di Foschini e perché il movente di quell'omicidio era legato alla rivelazione dei rapporti Papalia servizi e quindi il confronto preliminare era indispensabile nella misura in cui l'omicidio mormile doveva risolverli i problemi non generarli e quindi io mi confronto con te per capire se ammazzarlo è consentito oppure no perché lo ammazzo anche per soddisfare le tue esigenze di chi non vuole che vengano fuori determinati rapporti e che rapporti erano certamente rapporti con appartenenti ai servizi di sicurezza che non facevano l'attività per cui erano pagati perdonate perdonate ho una stanchezza fisica e mentale non indifferente ma sono ancora in grado di ragionare come se fosse un bambino e mi piace questo sinceramente e nel mio ragionamento da bambino perché bambino sto tornando in questa requisitoria e mi viene da chiedermi papà scusami ma se i servizi stavano facendo quello per cui erano istituzionalmente chiamati e cioè andavano in carcere a fare i colloqui con i detenuti all'interno di protocolli operativi riconosciuti nel momento in cui un operatore penitenziario regolarmente retribuito anche lui per fare quel lavoro sbotta e dice ad un detenuto io non sono dei servizi come te perché deve morire se i servizi vanno in carcere a fare operazioni legittime perché deve morire perché il rapporto è un rapporto diverso è quel rapporto che voi potete ricostruire e inquadrare come abbiamo fatto quando abbiamo parlato di quel Demetrio lo giudice uomo dei libri che aveva relazioni con determinati ambienti tra cui quel Giovanni Aiello che non erano relazioni normali perché vedete l'interscambio di informazioni da e verso la componente criminale di tipo mafioso non è normale cioè l'appartenente all'apparato istituzionale prende prende informazioni non ne dà e questo è il problema e quindi in quel riferimento che qualifica una relazione che probabilmente non è ispirata a questo tipo di veicolazione unilaterale trasforma mormile in un uomo che deve morire e muore e visto che i papali avevano l'esigenza di confrontarsi con chi era stato evocato e ottengono l'autorizzazione ottengono anche l'indicazione sulla sigla da utilizzare perché è evidente che la immediata riconducibilità ai papalia sarebbe stato un problema per chi quei papalia con i papalia aveva determinati rapporti ma perché indipendentemente da tutto questa circostanza è decisiva perché la sigla falange armata nasce in quell'ambito di relazioni perverse tra componenti deviate dello stato e grandi mafie in primis l'andrangheta è lì che nasce è lì che diventa un modello che si deve utilizzare in una stagione stragista come quella che noi stiamo ricostruendo soprattutto perché e vi invito a leggere a questo punto quello che dice anche pace salvatore altro uomo dei papalia e noi avevamo necessità di continuare a vivere in un determinato circuito e di mantenere il nostro ruolo esattamente come spiega Foschini ma certamente i miei capi non avevano uno spessore culturale per fare scelte di questo tipo o per pensare a rivendicazioni di tipo terroristico l'indicazione sulla sigla era chiaramente venuta da quegli appartenenti infedeli ai servizi di sicurezza con cui Domenico e Antonio avevano relazioni soprattutto perché vi dico io e vi sfido a cercare elementi di segno opposto fino a quel momento mai nessuno in Italia aveva utilizzato quella sigla era proprio originale e quindi come era originale in quel momento storico poteva tranquillamente farsi ricorso ad una sigla originale nel giugno del 91 quando Rina parallelamente ai vertici dell'Andrangheta programma una determinata stagione è certo è come la musica no mi siete mai chiesto se la musica nelle sue armonie potrà mai avere fine mai purtroppo anche le sigle terroristiche rispondono ad una logica del genere ove si voglia sollecitare la fantasia quindi Papalia o la inventò o fu imbeccato da qualcuno però pensare che Papalia potesse avere gli strumenti culturali per creare un riferimento che poi avrebbe fatto storia e veramente accedere a un periodo ipotetico del terzo tipo cioè dell'irrealtà nel passato l'irrealtà nel passato e infatti non è così e ce lo dice Pace Salvatore oltre a Foschini e a Cuzzola perché erano degli ignorantoni e l'indicazione proviene da una componente di quello stesso sistema in cui i Papalia vivevano e operavano quali uomini di Altandrangheta da molti anni che era sovraordinata rispetto a loro se è vero che prima di consumare l'omicidio mormile fu necessario chiedere l'autorizzazione il dato obiettivo è questo nell'aprile del 1990 il contatto dei Papalia con un determinato mondo era un contatto che deve essere inquadrato in questo modo e l'ho detto nella prima nella prima udienza attenzione non i servizi di sicurezza che lavorano costantemente per la sicurezza nazionale attenzione i primi danneggiati sono loro non l'appartenente alle forze dell'ordine infedele con un generalismo pericolosissimo che estende poi il concetto di sporcaccione a tutte le istituzioni perché i primi danneggiati sono i soggetti che ogni giorno fanno fino in fondo il loro dovere pezzi deviati di istituzioni riferibili ad un contesto operativo ben preciso soprattutto quando abbiamo conferme dei rapporti con quegli ambienti andate a vedere Cuzzola che cosa spiega Cuzzola spiega che in effetti Domenico Papalia fratello di Antonio aveva rapporti con alcuni appartenenti ai servizi di sicurezza e che tutto ruotava intorno a questi rapporti quando si decise di eliminare Umberto Mormile e poco dopo l'omicidio Mormile dice Cuzzola potevano essere due giorni dopo tenete conto che sono passati oltre vent'anni quando ne parla diciamo che sfido chiunque ad essere più preciso di lui incontrai in un bar di Buccinasco di proprietà di uno di Platì per questo la popolazione in Calabria non cresce ma cala perché i calabresi sono molto più altrove che qui con Franco Cocotrovato e Antonio Papalia ci incontrammo Papalia era molto preoccupato per la risonanza dell'omicidio e disse che bisognava fare qualcosa per allontanare da sei sospetti dall'andrangheta e da noi ma disse che non poteva deciderlo da solo intanto ci disse che dovevamo in qualche modo pensare ad un'attività depistante magari una rivendicazione di tipo politico insomma dovevamo capire meglio che cosa fare perché era un omicidio che non era come tanti altri ma soprattutto ci disse che quel suo pensiero era nato nel contatto che lui aveva con determinati ambienti di cui io ebbi conferma quando poi disse di fare una telefonata a Lanza di Bologna utilizzando un numero che non era pubblico ma che era nell'esclusiva disponibilità degli appartenenti alle forze dell'ordine anche lì le rivendicazioni sono state più di una come abbiamo visto prima quando ve le ho indicate e Papalia mi disse che chi gli aveva dato queste indicazioni aveva detto che bisognava insistere mi dite che si chiama falange armata la sigla che è stata utilizzata io vi dico sì è proprio questo è proprio il nome della formazione terroristica che venne suggerita a Papalia ma vi dico anche di più ora che mi fate riflettere i rapporti tra Papalia e Cosa Nostra erano molto stretti non solo nel traffico degli stupefacenti dove operavano i fidanzati e i madonia ma anche in relazione a tante altre situazioni tant'è vero che quando Cosa Nostra ci spiega decide di assumere un ruolo di secondo piano nella gestione del traffico di stupefacenti in Lombardia affida la gestione a un uomo di vertice dell'andrangheta Paolo Sergi cura i traffici tanto per noi che per loro che Mico Papalia in particolare avesse rapporti strettissimi con appartenenti deviati ai servizi di sicurezza sapete da chi lo ha appreso ci dice Cuzzola da uno qualsiasi che in quest'aula non abbiamo mai nominato fate un nome a casaccio io ne faccio uno Facciazza Pino Piromalli il quale anzi mi disse dice Cuzzola che lui aveva i documenti che attestavano questi rapporti Papalia servizi e mi disse anche che questo andava benissimo a tutti i soggetti di vertice dell'andrangheta tant'è vero che mai nessuno aveva contestato niente e vedi pure le potenzialità operative vanno accresciute non limitate ma vi dico ancora di più su Falange Armata il nome era stato suggerito ricordo che che ho trovato chiese a Papalia ma dove l'hai preso sta sigla in presenza di Cuzzola e lui rispose mi hanno detto di fare questo nome non specificò chi ma io capì che erano stati gli amici suoi appartenenti ai servizi di sicurezza e se volete capire chi erano i Papalia in quegli anni e come si inseriva questa famiglia in un circuito di indrangheta di alto livello vi dico che Carmine Giuseppe De Stefano dopo la morte del padre il 13 ottobre dell'85 vivevano quasi perennemente a Milano soprattutto tra l'86 e l'87 sapete da chi vivevano dai Papalia e da Franco Cocco ecco il ruolo di determinate famiglie ecco il perché Pino Piromalli Carmine Giuseppe De Stefano Papalia Falange Armata Attentati ai Carabinieri Riconducibili a quelle famiglie Attento caro dottore Lombardo che c'è ancora un pezzo che le manca e siamo qui per questo gentilissimo signor Cuzzola se lei si sbriga a rivelarci tutti i pezzi il pezzo che vi manca ruota intorno a Mico Paviglianiti di cui ci parla Fiume in quel famoso consorzio Fiume è uno portato a queste definizioni a questi slogan Reggio Bene Consorzio sono tutti termini che ha utilizzato lui per primo nel panorama giudiziario regino Mico Paviglianiti mi disse una volta una cosa importante sarà stato l'89 o il 90 vedi che torniamo al periodo di riferimento fosse stato già l'88 no no l'89 e l'90 tra la fine dell'89 e l'inizio dell'90 vedi che torniamo all'autunno dell'89 al muro di Berlino e che ti disse mi disse che i servizi segreti avevano rapporti molto stretti con Mico Paviglianiti anzi che andavano a casa sua a trovarlo nel quartiere San Lorenzo di Reggio Calabria anzi in un'occasione ora che ne parlo io 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 vidi in prima persona arrivare queste persone a bordo di una 1 ovviamente non presenziai all'incontro che me lo chiede a fare mica io ero che avevo rapporti ce l'aveva lui quando se ne andarono però chiesi a Paviglianiti con cui avevo una lunga carriera alle spalle ma chi erano sono uomini dei servizi e sono stati mandati da me per una serie di attività volute da Mico Libri Mico Libri ma non sarà quel Mico Libri il vertice della Cosca Libri che controlla il quartiere Sant'Antonio Reggio Campi attraverso la figura di Demetrio lo giudice detto Mimmo che aveva avuto il compito di addestrare all'uso delle armi Calabro Giuseppe che sapeva tutto insieme a Calabro a Filippone Rocco Santo intorno agli attentati ai danni dei carabinieri consumati tra il dicembre e il febbraio in Calabria sarà lui quanti Mico Libri conoscete io uno solo e vi dico che è lui è lui in questa meravigliosa comunità di 15 persone perché tante sono le teste pensanti di un sistema criminale così complesso da amministrare Mico Libri aveva rapporti con i servizi tali da consentirgli di mandare a casa di Mico Paviglianiti la proiezione dei libri in Lombardia gli appartenenti a quel mondo per effettuare delle operazioni mi è venuta la zeta bolognese probabilmente perché sullo sfondo c'è la strage del pilastro dobbiamo fare come quelli della uno bianca sono bravo a nascondere la stanchezza ma allora tu carissimo Pierpaolo Fulci non mi hai mentito mi hai raccontato cose di altissimo livello da partù visto che l'ambasciatore Fulci nella storia repubblicana è probabilmente l'unica figura di quel livello lì ad essere stato preso dal contesto delle carriere di altissimo profilo che sono carriere politiche in ambito diplomatico signori l'ambasciatore Fulci ha rappresentato l'Italia nel patto atlantico non avete sentito chi è ma in una determinata stagione Andreotti e Cossiga hanno bisogno di lui perché lo sapete già sono agevolato perché lui aveva un'intelligenza diplomatica e politica tale che aveva risolto i problemi con gli americani nel momento in cui Andreotti probabilmente in un tentativo disperato di svincolarsi dalle pressioni che subiva da determinati ambienti istituzionali confermò l'esistenza di Gladio gli americani gli dissero Giulio cominci ad essere vecchio rincoglionito abbiamo capito che il muro di Berlino è crollato ma tu pensi che le operazioni stay behind siano finite? Tu pensi che il rischio comunista sia cessato? Ecco la lettura da dare in relazione alle amministrative del 93 e Achille Occhetto che andava in televisione e diceva il prossimo premier sarò io parlava proprio di programmi governativi me le sono andate a rivedere sinceramente vi confermo che la data era 21 novembre 93 ballottaggio fissato il 5 dicembre del 93 tacchete avrebbe detto qualcuno e caro fulci vedi che abbiamo bisogno di te e abbiamo bisogno di te tra il maggio 91 e l'aprile del 93 perché è successo quello che sai sei stato bravissimo a gestire ho imparato una cosa nuova quando si deve venire a fare questo tipo di operazione che ha molte similitudini con una prestazione agonistica bisogna mangiare come gli atleti cosa che io ieri sera non ho fatto vogliamo essere responsabili no presidente no assolutamente la facciamo alle due non ascolto mai i consigli e vabbè ognuno diciamo ha i suoi difetti tra il maggio del 91 e l'aprile del 93 quando eri stato bravissimo gli dicono Andreotti e Cossiga a toglierci le castagne dal fuoco con l'alleato americano che voleva erba per cento cavalli quando sono andato in Parlamento a confermare che Gladio esiste e quindi ho svelato tutte le altre operazioni stay behind che erano in corso anche in altri paesi che facevano parte della stessa alleanza bravissimo guarda perché sei stato quello che è stato capace insieme a Montgomery di trovare la soluzione non di chi nega ma di chi su questo versante non rispondendo consente di superare un impasse diplomatica certamente di grandissimo rilievo però abbiamo bisogno di te oggi caro mio perché io e Giulio Giulio e Francesco sappiamo e per quello che è stato il nostro ruolo negli ultimi 40-50 anni di vita politica nazionale che non è finita qua perché guarda che quelle che erano le pressioni che abbiamo già percepito e che portano Giulio a uscire dal ricatto confermando in sede parlamentare l'esistenza di Gladio e continueranno quindi abbiamo bisogno di una persona che passa dalla carriera diplomatica al vertice dei servizi di sicurezza come direttore del CESIS e quella persona sei tu perché sei perfetto la diplomazia fatta a persona avete visto da oltre 90 anni è proprio così e quindi Fulci che non voleva accettare perché aveva un'esperienza già enorme cede alle richieste di Andreotti e Cossiga accetta l'incarico e va a dirigere il CESIS che cosa gli succede appena assume l'incarico di direttore del CESIS subisce una serie di minacce e chi poteva poter voler male al vertice del CESIS non sono persone a cui si vuole male firmate falange armate quella falange armata che poi le attività di verifica interna risposte da Fulci come lui ci ha raccontato e come vi ho documentato in atti si risolvono una serie di accertamenti che vengono trasmessi anche al comandante generale dell'arma dei carabinieri e al capo della polizia nei confronti di 15 barra 16 funzionari del SISMI che prestavano servizio presso il nucleo Ossi una sorta di gruppo di elite della settima divisione in quanto a giudizio del Fulci erano proprio loro che compivano tutta una serie di azioni di minacce nei suoi confronti rivendicandole falange armata quindi secondo Fulci esisteva una struttura occulta all'interno dei servizi di sicurezza una struttura occulta e deviata che svolgeva una costante pianificata campagna di intossicazione termine volutamente riferibile a quegli ambienti disinformazione e aggressione di esponenti istituzionali che si poneva in linea con la politica piduista dei vecchi apparati sid sifar oh non sono considerazioni mie che non sono tanto preparato da potervi su questo fronte da potermi avventurare in considerazione di questo tipo sono le risultanze di quelle indagini interne che avete introitato nel fascicolo per il dibattimento voluta da Fulci e delegata ai suoi più stretti collaboratori il Fulci in poche parole legava le azioni di minaccia di vendicazione e intimidazione della falange al tentativo di infangare e intimorire tutti i soggetti di rilievo istituzionale o pubblico che avevano evidenziato perplessità sulla cosiddetta operazione Gladio individuando tra i legami anche quelli tra questi soggetti e la P2 e vabbè ma voi ormai lo sapete 15 erano e quindi ci sono rimasti i protagonisti di questa storia che cosa riferiva l'ambasciatore Fulci ci raccontava come aveva come si era snodata la sua carriera in quale contesto aveva lavorato il patto atlantico le dichiarazioni di Andreotti il fatto che era riuscito ad ottenere una no smentita delle dichiarazioni di Andreotti da parte della Nato che venne contattato più volte dal presidente Cossiga che gli rappresentava che insieme ad Andreotti avevano deciso che lui doveva andare a ricoprire l'incarico di direttore del Cesis che dopo qualche riluttanza accettò che Andreotti e Cossiga gli spiegarono che avevano bisogno di lui per capire cosa stava succedendo e per sottrarsi a quell'azione ricattatoria che la sua nomina non aveva avuto una particolare risonanza neanche mediatica ma che ancora prima di assumere l'incarico Falange Armata aveva iniziato già a minacciarlo ma come? E come lo sapevi? E lo sapevi sì se sei parte di quel sistema C'è bisogno che io ti dica come circolano certe informazioni in determinati ambiti che tale attività intimidatoria ebbe a proseguire che lui delegò una serie di accertamenti che lo avevano intercettato loro stessi all'interno dell'alloggio all'interno della sede del direttore del Cesis ma tutto può capitare sinceramente sarà stata una svista quelli c'erano apparati di registrazione montati perché bisognava disinstallarli registrano e farli registrare voglio dire così qualche cosa voglio dire su fulgi viene fuori magari scopriamo voglio dire che ha dei gusti culinari particolari e lo ricattiamo perché fa la carbonara con la panna ma signori ma signori questa è la storia d'Italia cioè io capisco la difficoltà di un giudice quando ha a che fare con le parole di un soggetto che è un vissuto di un certo tipo e quindi sullo scetticismo che io io applico regolarmente nel momento in cui inizia la collaborazione di qualcuno che viene da un certo mondo come posso orgogliosamente rivendicare di aver fatto principalmente nei confronti di Nino lo giudice ma qui stiamo parlando di uno dei principali ambasciatori della storia d'Italia che viene a raccontare quello che ha capito e ha accertato e ne vogliamo mettere in dubbio l'avversione e allora il meccanismo di valutazione tipico di un processo penale è finito se ne vogliamo mettere in dubbio la valutazione e l'esito degli accertamenti da lui disposti nella misura in cui che cosa ha scoperto che le località da cui partivano i messaggi falange armata che lo riguardavano coincidevano con le missioni di questi omini del sisme del sisme appartenenti alla struttura occulta e deviata che era quella settima divisione e quel gruppo ossi questo è quello che voi avete in atti e che vi conferma qual è la chiave di lettura da dare ai rapporti che avevano con le altissime espressioni di cosa nostra e drangheta quella coincidenza delle sedie periferiche del sisme e le celle da cui provenivano le telefonate falangiste ha una forza dimostrativa dirompente nella misura in cui c'è anche una coincidenza temporale evidente fra i soggiorni di quegli operatori e le telefonate stesse quindi non solo la sede fisica del sisme ma anche il fatto che presso quelle sedie sismi in quei giorni c'erano gli operatori che lui sospettava ecco il fare rumore di cui ci parla più di un collaboratore di giustizia ed ecco perché noi abbiamo la possibilità andando a concludere su questo argomento di dire che abbiamo tre filoni di indagine autonomi ma che si intersecano perfettamente tra loro su falange armata il primo è quello che riguarda i rapporti con Cosa Nostra Bagarella il veggente detto anche che guarda la televisione come la guardo io e dice guarda adesso Graviano salta fuori dallo schermo adesso caro Tullio vedrai che qui rivendicano falange armata tacca rivendicazione secca falange armata primo filone secondo filone Drangheta Papalia i loro rapporti con determinati ambienti la morte di Mormile le confidenze fatte a De Stefano De Stefano che vede i rapporti tra i papalia e i servizi e Pino Piromalli che dice io ho anche i documenti bravo Pino bravo perché i documenti un pezzo di carta è sempre importante averlo terzo indagine interna al Sismi effettuato dal direttore del Cesis che fu il primo direttore del Cesis ad aver utilizzato fino in fondo i suoi poteri anche ispettivi oltre che di controllo della spesa che ovviamente non piaceva perché veniva da una carriera che era una carriera di altra natura voi vi chiederete allora e come dobbiamo leggere il comportamento di Andreotti e di Cossiga ma signori come lo dobbiamo leggere il comportamento di Andreotti e di Cossiga secondo voi ma secondo voi voglio dire per quella che era la storia politica e qui non mi interessa assolutamente andare oltre la storia politica né dell'uno né dell'altro e non mi interessa in alcun modo anche perché l'ho fatto quando mi serviva richiamare quello che è l'esito del processo Andreotti ma secondo voi voglio dire indipendentemente da determinate relazioni che non sono oggetto di un accertamento mirato da parte nostra in questa sede ma i vertici dello Stato Andreotti e Cossiga Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei Ministri potevano farsi ricattare dagli ossi no scusatemi potevano voglio dire in qualche modo agevolare un sistema di potere deviato che in quel momento storico vedeva come vittima non il cittadino ma lo Stato come istituzione non mi pare sinceramente non mi pare perché anche se volessimo essere malevoli dovremmo necessariamente fare i conti con una democrazia in cui tu non ti svegli la mattina e ti vai a sedere sulla poltrona di Presidente della Repubblica e di Primo Ministro in una democrazia voglio dire per andare a ricoprire quelle cariche ci sono tantissimi meccanismi che vengono in essere e nessuno dei due aveva la presunzione di dire io mi siedo dove voglio quando voglio e faccio quello che voglio quindi nel momento in cui e quindi le cariche istituzionali rappresentate da Andreotti e Cossiga percepiscono quello che sta succedendo mettono un uomo che aveva dimostrato grandi capacità nel posto che consentiva di capire cosa stava realmente accadendo dopo la caduta del muro di Berlino questa è la grande forza di una ricostruzione come vi ho già detto assolutamente privata di suggestioni che non mi interessano e che non ho la forza in questo momento di coltivare perché sono certamente orientato a svolgere il mio compito eliminando tutto quello che pura suggestione a voi non serve ma sono invece orientato a dirvi se mettiamo poi insieme questi tre filoni di indagine che riguardano falange armata cosa nostra andrangheta e sismi di giungere ad una conclusione cioè è che la lettura congiunta delle risultanze specifiche raccolte per ognuno ci porta ad una conclusione evidente drangheta e cosa nostra avevano perso i referenti politici soprattutto perché lo scenario mutato politico lo scenario politico mutato non consentiva più a quei referenti politici di fare quello che avevano fatto fino a quel momento indipendentemente dal fatto che volessero continuare a farlo o meno non si poteva più fare ecco perché cosa nostra indrangheta ma soprattutto cosa nostra relazione al maxiprocesso aspetta per qualche tempo cerca di capire se determinate risposte possono arrivare e comprende che non possono arrivare e capisce ad un certo punto che il maxiprocesso non sia giusta certo imputerà poi la responsabilità di quel mancato aggiustamento come sappiamo perché il marzo del 92 anche lì non è un un mese come tanti altri ma sanno anche che non basta rimproverare chi non ha fatto ma bisogna ricollocarsi nello scenario politico perché il rimprovero servirà in qualche modo a sanzionare il passato ma non servirà a costruire il futuro e questo progetto cosa nostra lo estende all'andrangheta che sa esattamente la stessa cosa perché i referenti politici erano gli stessi e il contesto politico di riferimento che va oltre il singolo operatore era lo stesso e la stessa identica situazione vivevano quelle parti di apparato che come se avessero perso la loro mission così richiamiamo pure questo tipo di di concetto in un periodo storico in cui non erano più nessuno perché se mi cade il blocco comunista io che il mio potere lo avevo costruito per anni proprio nell'opera di fronteggiamento di quel blocco io non sono più nessuno io verrò adibito a servizi diversi ma venendo adibito a servizi diversi io ho bruciato tutto il vantaggio acquisito che faceva di me un perno indispensabile in un determinato contesto vedete come converge tutto in relazione diciamo alle stesse identiche esigenze vedete come i pezzi si mettono insieme da soli e soprattutto vedete come quelle vecchie strutture che erano state gestite per anni e lo ricavate alla relazione finale della commissione Anselmi vedevano come protagonista assoluto il materassaio di Arezzo Licio Licio Gelli così lo chiamavano con tutto il rispetto che questo faceva apparentemente nella vita componenti geliane che non a caso tutelavano e questo lo ricavate da relazione Anselmi nel momento in cui si parla anche delle minacce che subiva e aveva subito l'onorevole Gualtieri le principali mafie cosa nostra indrangheta e le componenti deviate dello Stato che con quel mondo avevano rapporti ecco il peso di tutta la ricostruzione sulla Santa e la Mamma Santissima e le componenti riservate di indrangheta e cosa nostra quando ci raccontano i collaboratori di giustizia e lo troverete io non lo so se riuscirò a farlo lo farò solo se nel discorso da qui alle quattro e mezza verrà fuori ma i miei percorsi mentali non riesco più a prevederli fino in fondo probabilmente lo farò quando Gaetano Costa e altri collaboratori di giustizia che avevano avuto a che fare con Peppino Piromalli con Santo Raniti con i Mammoliti con i De Stefano con i Nirta ci raccontano qual era il progetto dell'alta andrangheta che diventava massoneria e andava a braccetto con la P2 e che vi devo dire magari sarà stato un caso legato al fatto che la sigla P2 non si dimentica ma io non credo che sia così perché avete sentito i collaboratori di giustizia che ci hanno raccontato qual era il disegno delle sfere elevatissime delle mafie quando una componente elevatissima doveva essere sempre parte di un contesto massonico che doveva intervenire al fianco della componente criminale per questo nasce la Santa e per questo vi ho riversato una serie di contenuti che riguardano l'indagine mamma santissima perché se noi continuiamo a raccontare anche in ambito giudiziario che tutte le componenti di indrangheta sono sullo stesso livello hanno vinto loro e per quanto mi riguarda non vinceranno mai sto indicando la finestra perché stanno fuori di qua ad ascoltare attraverso radio la ricale quello che stiamo dicendo e che ascoltino così sapranno anche quello che saremo orientati a fare domani Licio Gelli era il perno lui era il perno perché attraverso la P2 lui controllava i servizi attraverso la Santa e la Mamma Santissima controllava l'indrangheta attraverso le componenti apicali di Cosa Nostra come ci raccontano Pennino Messina Avola Malvagna controllava Cosa Nostra questa è la verità e così dovete leggere il messaggio di Falange Armata del 2013 a Rina quando gli dicono su Totò oh oi che stai facendo vedi che hai gente fuori e non ti preoccupare più di tanto perché ti vediamo agitato a tutto il resto pensiamo noi come abbiamo sempre fatto e su Totò ha capito ecco l'accordo il contatto il parallelismo politico-criminale che vedeva ancora una volta protagonisti Gelli e le mafie che avevano gestito la fase delle liste autonomiste e che le avevano abbandonate per sposare il progetto di Forza Italia come bene ci fa comprendere Giuseppe Graviano sono le due io penso voglio dire che ci possiamo fermare qui perché le trenta pagine che mancano verranno illustrate da me tra le tre e le quattro e mezza quando andremo poi a fare le richieste finali va bene allora facciamo una pausa e riprendiamo alle tre per Terni va bene si va bene signor Presidente allora le ore 15 ci siamo Terni ci sentite si ok sentiamo buonasera imputato Graviano è presente con le difese come siamo c'è lei avvocato Suraci avvocato Suraci per tutti parte civile avvocato Basile avvocatura dello Stato e parte civile Paola Ivana posso? sì prego le considerazioni che vado a fare Presidente signori giudici penso ci consentiranno di focalizzare la nostra attenzione su quelli che sono come ho già detto gli argomenti chiave di questo processo e soprattutto di valorizzare adeguatamente alla luce della ricostruzione che abbiamo fatto prima della sospensione quella fase rivendicativa legata agli attentati consumati nel nostro territorio in Reggio Calabria nella sua provincia tra il dicembre e il febbraio dicembre 93 e il febbraio del 94 per collocare nella giusta veste dare corretto peso processuale ad acquisizioni che immediatamente dopo quegli accadimenti non avevano avuto nessuno sviluppo investigativo come vi è stato confermato nel corso dell'istruttoria da numerosi ufficiali di polizia giudiziaria impiegati qui a Reggio Calabria in quel periodo storico dei quali solo due ed è anche questo dato su cui siamo chiamati a riflettere per la capacità che Indrangheta e Cosa Nostra e altre componenti hanno avuto nel nascondere nel momento in cui i messaggi dovevano arrivare solo a determinati ambienti quale fosse la effettiva causale di quegli attacchi dicevo solo due degli ufficiali di IPG sentiti ci hanno detto sì effettivamente qualcosa di strano c'era e soprattutto c'era di strano ora vedremo chi ce lo racconta che l'Indrangheta attaccasse i carabinieri e rivendicasse quegli attacchi quali sono i dati fortemente dimostrativi dell'assunto accusatorio da cui dobbiamo partire intanto le dichiarazioni di Bruno Tucci e il suo articolo del 20 gennaio del 94 Tucci che confermava davanti a voi quello che dall'articolo risulta e cioè di essere stato qui a Reggio Calabria ed aver interloquito con ufficiali dell'arma dei carabinieri per capire meglio quello che stava accadendo apprendendo in quel contatto che erano accadimenti che andavano contestualizzati con attenzione Tucci che nel suo articolo faceva una serie di riferimenti all'Hotel Palace di Reggio Calabria al Consiglio Intermedio di Rappresentanza dei Carabinieri e ad una telefonata di rivendicazione in cui si diceva questo non è che l'inizio di una strategia del terrore certamente elemento questo del tutto estraneo a quelle logiche criminali che caratterizzano la gira dell'andrangheta soprattutto quando consuma fatti che vanno oltre l'ordinario ovviamente non ci bastava ascoltare soltanto Tucci e quindi nel corso delle indagini preliminari e per rendere a voi il peso di quelle dichiarazioni nel corso del processo abbiamo ascoltato tutti quelli che potevano avere informazioni in grado di comprendere come Tucci avesse saputo di quella telefonata di rivendicazione e il riferimento che nel corso della stessa era stato fatto ad una strategia del terrore e Tucci ce lo ha spiegato come ce l'hanno spiegato altri e mi riferisco in particolare ora vedremo su quali fronti alla deposizione di Mazzeo Antonino e al contributo dichiarativo di Felice Antonio D'Andria cognato di Fava Antonino vorrei partire proprio da qui per dirvi che una delle difficoltà maggiori che noi abbiamo vissuto nella fase genetica di questa investigazione è stata quella proprio di collocare nella giusta luce perché una traccia evidente non era stata coltivata perché decine di ufficiali dell'arma dei carabinieri ci riferivano che nessuno si era posto il problema di andare a comprendere meglio quelli che erano elementi univoci in quanto altamente dimostrativi della straordinarietà di quello che stava succedendo in Calabria in quei giorni e quindi l'utilizzo di una stessa arma l'attacco violento nei confronti di appartenenti all'arma dei carabinieri le telefonate di rivendicazione e ci hanno detto in tanti che quegli attentati sono stati trattati in maniera ordinaria spiegandoci che nessun reparto speciale era intervenuto che se ne dava una lettura collegata a quelle che erano le attività proditorie di un'organizzazione violenta che anche prima aveva consumato anche in altre occasioni anche prima di quel periodo aveva consumato azioni criminose nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine però Dandria ci dice subito una cosa diversa e ci dice indipendentemente dal fatto che io fossi il cognato di Antonino Fava per me è rimasto subito un mistero il motivo dell'acquato io che ho fatto polizia giudiziaria sul serio e per tanti anni sapevo che l'andrangheta non attacca gratuitamente alle forze dell'ordine e cioè non agisce senza motivo per una inspiegabile ricerca di una condanna all'ergastolo ed era chiaro che in questo duplice omicidio c'era qualcosa di strano era un'azione gratuita proprio perché lo sanno anche i bambini che non ci sono posti di blocco sull'autostrada tranne situazioni straordinarie in cui non è mai una singola pattuglia che fa il controllo sull'autostrada io ricordo un solo caso dice lui nella mia carriera in cui questo è avvenuto ma certamente c'era uno spiegamento di forze che canalizzava il traffico e controllava il flusso veicolare con un approccio che non era ordinario come quello di chi sulle strade statali provinciali voglio dire di altra natura fa il controllo che poi si risolve appunto in tutta una serie di segnalazioni utili su vari fronti e quindi lo sapevano perfettamente che non era possibile controllare con un posto di blocco l'autovettura che occupavano gli autori di quel crimine efferato e ai miei occhi tutto questo appariva gratuito incomprensibile e l'ho detto ma nessuno mi ha dato risposta mi sorprese che non fosse intervenuta nessuna componente provinciale o ultra provinciale per fare le indagini lui dice non intervenì Ross ma anche diciamo su altri fronti c'è l'impiego delle forze investigative fu ordinario e invece mi pare e mi sembra evidente dice D'Andrea che di ordinario non c'era proprio niente le altre deposizioni avete sentito bene che tipo di contributo ci hanno dato e soprattutto sul versante riferibile all'articolo di Tucci nessuno ricorda niente se non Mario Conti che ci dice di ricordare che effettivamente l'arma utilizzata era sempre la stessa certo circostanza che mi ha fatto riflettere ma nulla più certamente era un'arma che scuoteva colpi calibro 9 Parabellum ed era compatibile con l'utilizzo di un mitragliatore M12 e qui arriviamo all'unico che ricorda della rivendicazione che è Mazzeo Antonino e che quindi completa quanto ricavabile dall'articolo del Corriere della Sera di Tucci e il suo contributo dichiarativo per dirci che effettivamente mentre stavo in questo albergo nei pressi del lungomare di Reggio Calabria arrivò una telefonata di rivendicazione o comunque di minaccia all'arma non ricordo il tenore esatto di quella telefonata perché non fui certo io a riceverla mi fu riferito da qualche collega del Consiglio intermedio che stava in albergo con me a Reggio Calabria ma sinceramente a distanza di tutti questi anni non ricordo chi fosse perché questa è una traccia importante perché valorizza quanto ci dice Tucci e quanto Tucci scrive il 20 gennaio del 94 ma soprattutto ci consente di chiudere il cerchio e collegare gli assalti ai carabinieri non solo la strategia stragista delle continentale riferibile a Giuseppe Graviano e agli stragisti già condannati ma ancora di riferirla a tutto quel contesto che abbiamo ricostruito stamattina che ruota attorno alle rivendicazioni falangiste che a livello nazionale erano già note per aver fatto la loro comparsa subito dopo la consumazione dell'omicidio mormile quindi a quel contesto papaliaco cotrovato di alta andrangheta che aveva rapporti con apparati di sicurezza con alcuni uffici con alcuni soggetti con alcuni appartenenti agli apparati di sicurezza e che rientrava in quello scenario più ampio in cui Cosa Nostra si era mossa per chiedere sostegno all'andrangheta nel momento in cui il fronte di guerra doveva allargarsi ecco le ricostruzioni che troverete in atti in quanto sono state acquisite ma che sono state anche illustrate nel corso dell'istruttore dibattimentale riferibili al lavoro certosino svolto dal servizio centrale antiterrorismo nel momento in cui ci consente di ricostruire una rivendicazione telefonica pervenuta ai carabinieri di Scilla in data 20 gennaio del 94 in cui il telefonista parla di strategia terroristica e promette altri attacchi un'ulteriore rivendicazione telefonica ai carabinieri del rione del rione modena in cui si parlava di fare una strage e infine quella più significativa e vedremo in quale momento storico va a inserirsi quella rivendicazione che è quella scritta che giunge presso la stazione carabinieri di Polistena in cui appare la sigla falange armata guarda caso inviata alla stazione dei carabinieri che ha giurisdizione in quella area tirrenica dell'Andrangheta a cui si riferisce il ruolo di altissimo profilo di Filippone Roccosanto e delle famiglie a cui lo stesso fa riferimento quindi Molè Piromalli Mancuso perché dicevo è importantissimo il momento in cui quella rivendicazione interviene perché quella rivendicazione come vi ho detto stamattina è del 4 febbraio 1994 e a mio modo di vedere è indispensabile per dare una chiave di lettura univoca e incontestabile nell'ottica degli stragisti a quelli che sono i tre accadimenti consumati in Calabria il 2 dicembre 1993 il 18 gennaio 1994 e il 1 febbraio del 1994 proprio perché la coda finale successiva alla cattura di Giuseppe Graviano ce la spiega Calabro Giuseppe nel suo lungo interrogatorio del 7 maggio 2014 quando lui ci dice mi diedero l'incarico di sparare di colpire più volte violentemente anzi a un certo punto ci dice Villani ci dissero che dovevamo essere più spietati e che dovevamo fare i morti quindi non ci dissero quanti dovevano essere gli episodi di attacco da consumare ci dissero certamente più di uno e io più di uno ne consumai fino a quando non mi dissero fermati perché è arrivata questa indicazione che questa indicazione sia di pochi giorni successiva alla cattura di Giuseppe Graviano è ampiamente spiegabile sul fatto attraverso il fatto che si attese di comprendere quello che bisognava continuare a fare in un momento storico in cui come ci ha detto Graviano il suo arresto non era assolutamente immaginabile perché ecco il contributo sul punto di Giuseppe Graviano che io più volte ho riconosciuto certo negli accorti di chi aveva il paese in mano non c'era l'arresto di Graviano il 27 gennaio del 94 e quindi gli amici calabresi di cui parla Spatuzza niente potevano immaginare su questo fronte e avevano continuato a mantenere in vita le indicazioni a Calabro fino a quando quelle indicazioni sono state revocate con una indicazione di ordine diverso e opposto fermati perché ora ci dobbiamo fermare ora inizia il periodo delle risposte quelle che Graviano ci dice essere arrivate probabilmente fino a un certo punto ma certamente ci dice non sono arrivate le risposte che dovevano arrivare e da qui a breve analizzeremo insieme il contenuto delle intercettazioni in carcere più importanti il 22 febbraio del 94 veniva arrestato Priolo ed è la vicenda Sorrenti di cui vi ho già parlato e che vi ha illustrato Michelangelo di Stefano il 24 febbraio Giuseppe Piromalli dichiarava nel corso di un'udienza a Palmi voteremo Berlusconi voteremo Berlusconi il 19 marzo del 94 si registrava il convegno il congresso la convention chiamatela come volete politica presso il grand hotel Villa Igea di Palermo in cui quella che era una discesa in campo affidata ad un messaggio pre-registrato il 26 gennaio del 94 diventava un insieme di incontri pubblici in cui Forza Italia illustrava il suo programma politico perché Giuseppe Graviano fornisce una chiave di lettura indispensabile da considerare oggi alla luce di quello che era il materiale che si era formato nel corso delle indagini preliminari in parte ve l'ho già detto in parte vi ribadisco ve lo ribadisco in questa fase conclusiva della mia requisitoria è la chiave di lettura che lui fornisce ruota attorno proprio ai contenuti di una serie di intercettazioni tra presenti che lo riguardano a cui voglio arrivare però segnalandogli un altro dato di grande rilievo per capire quanto Graviano sappia di quelle che sono le dinamiche di indrangheta e soprattutto di quelli che sono accadimenti che probabilmente anche molti indranghetisti non conoscono in alcun modo mi riferisco a quella che potrebbe sembrare una vicenda apparentemente minore e che noi istruiamo sulla base delle dichiarazioni dei fratelli Notargiacomo e del vicequestore Provenzano che parte dal contenuto di una intercettazione di Graviano ed Adinolfi del 12 febbraio 2016 in cui Graviano spontaneamente nel discutere con Adinolfi fa riferimento al suo intervento nel momento in cui si erano manifestati propositi omicidiari nei confronti del dottor Nicola Palcalipari all'epoca capo della squadra mobile di Cosenza perché è importante questo riferimento perché come avete avuto modo di verificare tanto nelle dichiarazioni dei Notargiacomo che negli approfondimenti disposti da quest'ufficio effettivamente l'accadimento è reale e ruota attorno all'intervento di Rina e Graviano che dicono agli amici calabresi come ci racconta anche Giovanni Drago che c'è un momento storico in cui gli assetti che legano le componenti criminali alle componenti politiche sono assetti che ancora non hanno subito gli scossoni di cui abbiamo parlato stamattina tant'è vero che la programmata eliminazione di quello che non era Calipari ma che era il vicequestore Provenzano in quanto poi è evidente che i riferimenti sono a lui che lavorava con Calipari per quello che ci hanno raccontato i collaboratori di giustizia ma per quello che ci ha raccontato lo stesso Provenzano non doveva essere consumata in Palermo perché in quel momento storico a Palermo Scruscio non bisognava farlo e quindi come vedete in quel rapporto tra vuoti e pieni che noi abbiamo cercato di collocare nella giusta luce nel corso di questa requisitoria noi abbiamo una stagione antecedente a quella delle stragi perché ricorderete che i riferimenti e notargiacono sono da datare attorno all'88 in cui gli assetti sono tali da non richiedere di fare rumore anzi e queste sono dinamiche di indranghete di cosa nostra assolutamente note e stabili nelle ricostruzioni giudiziarie nelle ricostruzioni giudiziarie definitive quando l'operatività è piena non bisogna in alcun modo attirare l'attenzione quindi si dice no noi siamo legatissimi a loro io so perfettamente quanto sia stretto il vincolo con l'andrangheta però ci stanno facendo adesso una richiesta che noi non possiamo in alcun modo accettare e glielo spiegheremo perché in questo momento scruscio non se ne fa e di questo parla Graviano in quella intercettazione del 12 febbraio del 2016 quando ci dice io ricordo che c'era questo programma che passava dall'omicidio di Nicola Calipari lui così fa riferimento abbiamo verificato che invece si trattava di un collaboratore di Nicola Calipari in un momento storico in cui Palermo doveva essere mantenuta immune da situazioni che potessero attrarre l'attenzione investigativa e che cosa si voleva consumare in Palermo l'omicidio di un appartenente alle forze dell'ordine perché l'omicidio di un appartenente alle forze dell'ordine poliziotto carabiniere che sia non è mai un evento ordinario per la reazione che normalmente si registra all'interno di determinati ambienti investigativi che però incredibilmente noi non troviamo in Calabria quando si attenta alla vita di Fava e Garofalo e degli altri carabinieri feriti nel dicembre e nel febbraio di quel periodo storico perché tutto questo ci serve perché io partirei proprio da questo contenuto diciamo con tutta evidenza riferibile al fronte calabrese per andare a leggere insieme a voi il contenuto di quelle intercettazioni su cui Graviano si è intrattenuto per circa quattro udienze perché come vi ho detto anche stamattina attenzione tre componenti che ruotano intorno alla sigla falange armata tre filoni investigativi che possono essere analizzati intanto in via autonoma e poi concatenati tra di loro drangheta cosa nostra componenti deviate dei servizi di sicurezza riferibili alla settima divisione del sismi e ma poi il silenzio falange armata dal primo marzo del 94 quando un determinato progetto politico diventa noto e operativo per poi riprendere falange armata con un messaggio altamente significativo dopo 19 anni rivolto a Totorina per dirgli stai zitto caro Totò perché stai parlando assai con la tua dama di compagnia se hai problemi ti vogliamo rassicurare intanto dicendoti che hai gente familiari liberi che noi possiamo colpire in qualsiasi momento ma se hai problemi ti vogliamo anche rassicurare sul fatto che ai problemi ci pensiamo noi perché noi sistema criminale all'interno del quale tu hai avuto un ruolo non siamo assolutamente finiti e io sono assolutamente convinto che anche oggi non sia assolutamente finito questo sistema criminale e dicevo quel parallelismo di cui vi ho parlato più volte che poi ci porta alla nascita di Forza Italia e al successo tombale che Forza Italia ha nel corso delle elezioni politiche del 1994 passa dall'analisi di questi contenuti e di quello che Graviano ci ha detto nel corso del suo esame che per me prova a carico degli imputati nella misura in cui mi dimostra la profonda conoscenza di Graviano di determinate dinamiche 19 gennaio 2016 Berlusconi pigliò le distanze e fece il traditore che cosa ci doveva dire di più Graviano andate a leggere integralmente il contenuto di quella intercettazione e indipendentemente da quello che è stata la sua interpretazione autentica nel corso dell'esame mi pare che ci sia tutto quello che serve per capire di che cosa parla come non avete bisogno di chiavi di lettura che vi devo fornire io per capire di che cosa parla nel corso del colloquio del 22 gennaio di quello stesso anno nel 93 ci furono le stragi e le cose migliorarono e tutte di un colpo fa un riferimento numerico e dice 450 ne tolsero di 41 bis che poi in realtà sono revoche e mancate proroghe e noi abbiamo fatto il conteggio sono 480 nel 94 lo stavano proprio togliendo il 41 bis c'era la Maiolo poi arrivò Bossi per poi fare riferimento a quello che aveva fatto Andreotti che non era ancora niente e prendere spunto da questi riferimenti per attaccare ancora una volta Giovanni Falcone poi si fa riferimento ancora una volta al progetto politico delle mafie prima della discesa in campo di Berlusconi abbiamo visto indipendentemente da quello che dice Graviano come lo abbiamo ricostruito e come le prime componenti di quel progetto vanno individuate in quella Calabria libera che sorge molto tempo prima rispetto a Sicilia libera in Calabria guidata da quel Donnici di cui parlano i collaboratori di giustizia e che troviamo come rappresentante di Calabria libera nella famosa riunione di La Mezzia Terme del settembre 93 andate a leggere il verbale di Pennino su questo front per capire quanto Pennino sa di determinate dinamiche e quindi quanto sia rilevante il suo contributo dichiarativo Sicilia libera venne fondata nel villaggio Euromare dice Graviano conferma quello che ci dicono i collaboratori di giustizia era secessionista poi arrivammo a Forza Italia che ha preso voti dice anche grazie a Sicilia libera e certo il travaso fu evidente anche in quella fase di passaggio in cui i primi circoli erano a doppio marchio Sicilia libera Trattino Forza Italia perché ovviamente ci volevano agevolare nella ricostruzione che stiamo facendo adesso come falange armata ci ha voluto agevolare in quei messaggi in cui ha spiegato che la falange armata carceraria che è quella che rivendica l'omicidio mormile è la componente carceraria della falange armata che è ovviamente aperta anche ad altri contesti anche lì grazie ai falangisti per averci consegnato una chiave di lettura che non è la mia ma è la loro Graviano non ha avuto il coraggio di spiegare fino in fondo una frase che si ricava da questa intercettazione del 22 gennaio 2016 perché è una frase che per forza di cose deve avere un significato enorme visto il contesto dialogico nel quale lui la inserisce parlando con Adinolfi e lui a un certo punto dice parlando di Forza Italia Sicilia libera e tutto quello che c'era stato anche in precedenza riferendosi ad Andreotti dice caro Umberto la gente non sa cosa c'era di mezzo non ce l'ha detto quello che c'era di mezzo ci ha fatto soltanto comprendere che tutti i riferimenti che lui ha fatto a Berlusconi e a Forza Italia sono verosimilmente da ricondurre proprio a quello che c'era di mezzo e perché se no io non riesco a comprendere qual è la logica di un discorso che una logica ce l'ha nel momento in cui un soggetto come lui è portato a dire al suo interlocutore però guarda non mi fare andare oltre perché tu non puoi immaginare la gente non sa che cosa c'era di mezzo e perché è importante tutto questo perché due giorni dopo il 24 gennaio del 2016 lui torna a parlare di questi argomenti e anche qui ci agevola molto nel lavoro che siamo chiamati a fare in questa sede nel dire te lo ricordi Gioacchino Pennino quello era un uomo mio quello era uno nostro nel mandamento di Brancaccio fornendo un contributo ancora ulteriore rispetto al dichiarato autoaccusatorio che il Pennino riversa nel corso dell'interrogatorio che voi avete acquisito quando ci spiega chi era lui quale alta massoneria rappresentava era noto infatti anche a Giuliano di Bernardo e soprattutto chi era lo zio in relazione a quella componente palermitana riferibile proprio a quelle grandi famiglie bontate in zerillo che in quegli anni avevano rapporti strettissimi con l'andrangheta come ci racconta Giovanni Brusca il 12 febbraio ve l'ho già detto parlava di Calipari il 22 febbraio 2016 tornava a parlare di Sicilia libera il 6 marzo tornava a parlare di tutta una serie di argomenti di particolare peso che riguardano anche il concepimento dei figli in carcere il 18 marzo tornava a parlare di Berlusconi e gli accordi che lui aveva avuto con Berlusconi e utilizzava la frase che utilizza Spatuzza quando introduce questi argomenti nel dire avevamo il paese nelle mani umbe utilizzo il suo modo di chiamare Umberto avevamo il paese in mano io avevo ricevuto una serie di rassicurazioni anche legate alla mia latitanza e soprattutto fa un riferimento temporale decisivo nel dire che alcuni preparativi che io riconduco alla stagione stragista erano già in corso nel 1991 e certo e come fa a non essere vero un passaggio del genere quando noi abbiamo ricostruito sulla base di plurime fonti dichiarative che il giugno 91 quando inizia la riunione di Enna e la parallela riunione in Calabria nella zona di Nicotera incontrà la batia dai componenti di vertice della l'andrangheta che sono esattamente quei soggetti di cui ci parla il collaboratore catanese Giuseppe Di Giacomo erano pronti a partire con quella stagione di sangue e di morti che formalmente inizierà nel 92 sol perché era necessario attendere l'esito del maxiprocesso e sol perché per uno scrupolo e per una prudenza che i grandi capi non potevano non avere nonostante avessero saputo già nel mese di ottobre che il maxiprocesso sarebbe andato male e non potevano non attuare nella misura in cui va bene queste sono le indicazioni che arrivano però permettetemi di dirvi avrà detto qualcuno che è comunque il caso di aspettare che la sentenza diventi definitiva perché scusatemi se poi facciamo i morti nell'ottobre nel novembre nel dicembre del 91 e per una qualsiasi ragione il teorema Buscetta cade perché magari c'è un cavillo che non passa dalla condotta che noi stiamo portando avanti attraverso una serie di ambienti politici e non solo finalizzati ad aggiustare quel processo e quindi ci cade il cuore del Maxi 1 abbiamo fatto morti che non hanno senso ecco perché il riferimento che Graviano fa nel corso del colloquio intercettato il 18 marzo del 2016 è indispensabile perché la viva voce di Graviano che conferma quello che vi ho detto nel corso della requisitoria e cioè che la stagione chiave è quella che si snoda a cavallo degli accadimenti che partono dal giugno 1991 ed è lui che ce lo spiega con grande con grande chiarezza come lui che ci spiega ancora il 9 aprile del 2016 quello che succede in carcere quando riuscirà a concepire il figlio e ancora di più quello che ci spiega il 10 aprile del 2016 quando confermando il dichiarato di numerosi collaboratori di giustizia sul punto tra i quali quelli che ho citato oggi tutti riferibili al contesto operativo che ruotava attorno al ruolo apicale di Luca Bagarella ci dice Berlusconi io già nel 92 sapevo che doveva scendere in campo perché noi avevamo tutta una serie di informazioni ci dice Graviano richiamando quei contenuti che ci avevano già rassicurato in questa direzione in una intercettazione in cui Graviano dice ad Adinolfi una serie di cose di un rilievo spaventoso per la ricostruzione che voi siete chiamati a fare perché questa è la intercettazione da cui dovete partire per valorizzare le rivendicazioni di falange armata e vi ho dato stamattina quel riferimento numerico che aumentano a dismisura proprio tra il gennaio e il febbraio del 94 per poi finire il primo marzo del 94 se non vogliamo considerare la rivendicazione del primo dicembre di quell'anno isolata e riprendere dopo 19 anni nel 2013 con un messaggio rivolto a Rina cioè falange armata nel 2013 poi minaccerà Totorina quindi partendo dai contenuti del colloquio intercettato il 10 aprile del 2016 voi avete nelle parole di Graviano che lui integra nel corso dell'esame reso in questa sede la conferma migliore rispetto al parallelismo di cui abbiamo parlato nel processo Dranghet cosa nostra falange armata movimenti separatisti forza Italia finito falange armata che aveva rivendicato tantissimi episodi stragisti scompare a fine febbraio del 94 come mai? nelle parole di Giuseppe Graviano c'è la risposta che cerchiamo e c'è la risposta voglio dire anche a quegli approfondimenti che abbiamo fatto esaminandoli in questa sede quando ci ha spiegato che alcuni importanti imprenditori del nord gli avevano chiesto di proseguire le stragi ecco l'urgenza dell'Olimpico del 23 gennaio 94 mentre altri soggetti politici si stavano muovendo guarda caso in contatto con le grandi famiglie di Cosa Nostra di Enna per capire se la stagione stragista si potesse fermare in quel momento prosegue Giuseppe Graviano perché non è soddisfatto di quello che sta raccontando da tempo a Umberto Adinolfi e lo fa l'11 aprile del 2016 quando immaginano il sistema per inviare messaggi a chi non ha mantenuto i patti la forza delle intercettazioni è questa Graviano lo sa non si è sottratto ha spiegato meglio anche rispetto a quello che noi avevamo ampiamente capito qual era il senso di quei messaggi e lo fa ancora il 12 e il 13 aprile del 2016 facendo riferimento agli uffici di Publitaria su questo non ha dato risposte coerenti con il contenuto dell'intercettazione che ho appena richiamato perché risulta dalla lettura congiunta di questi due progressivi 12 e 13 aprile del 2016 che lui entrava e usciva dagli uffici di Publitaria a favore della quale forniva una serie di servizi questo si ricava dalle intercettazioni e dalle intercettazioni quindi si ricava che entrando e uscendo da Publitaria non devo esservi io qual è il rapporto dell'utri Publitaria perché sinceramente farei insulto a chi mi ascolta anche per quello che abbiamo documentato nel corso del processo anche in relazione agli incontri organizzati proprio da Publitaria nel gennaio del 94 nei giorni in cui Graviano è a Roma e Publitaria lavora all'interno dell'hotel Majestic a 120 passi dal Bardonei voi mi chiederete perché so che sono 120 passi e io ve lo rivelo perché io sono andato a piedi dal Bardonei al Majestic non si può fare un esperimento giudiziale in prima persona quando dell'utri in salottini riservati riceve gente che parla in dialetto calabrese siciliano e certo possono essere state anche persone per bene e chi lo mette in dubbio certo è che disponete di un elemento di valutazione aggiuntivo rispetto a quello che avevamo fino a qualche tempo fa se vogliamo contestualizzare il discorso che Graviano fa a Gaspare Spatuzza il 21 gennaio di quell'anno visto che Graviano immaginava già che la nostra sete di riscontri sarebbe stata diciamo difficile da soddisfare ci forniva ulteriori indicazioni in quelle intercettazioni e tornava a dirci perché lo aveva già capito che noi avremmo ricostruito sull'apporto dichiarativo di Gioacchino Pennino proprio il legame cosa nostra andrangheta in relazione a quei livelli che diventano un tutt'uno con l'alta massoneria irregolare e ci torna a dire come se si rivolgesse a noi attenzione che quando andrete a valorizzare l'apporto dichiarativo di Pennino vi dovete ricordare come vi ho detto già nell'intercettazione del 24 gennaio 2016 che Pennino è un uomo mio mio quindi che chiave di lettura dovete ricavare valorizzando il comitato d'affari di cui parla Pennino negli anni in cui ancora i corleonesi non erano i padroni di Cosa Nostra che quando lo zio in Calabria aveva creato quel circuito di vertice in cui pezzi di indrangheta pezzi di Cosa Nostra pezzi di massoneria pezzi di politica pezzi di apparati deviati dello Stato si mettevano insieme e diventavano operativi noi in Sicilia ancora non eravamo partiti su quel fronte perché così mi disse Stefano abbontato e Graviano lo sapeva che io avrei discusso molto su questo e quindi mi ha voluto rassicurare nel dire caro dottore Lombardo guardi che le dico io che Pennino era un uomo mio quindi quando lei valuta le sue dichiarazioni a partire dal 1994 consideri che era un uomo di brancaccio e che quindi i rapporti privilegiati che ho io con l'andrangheta si riferiscono a brancaccio esattamente come vi spiega Gioacchino Pendini sapeva anche che avevamo necessità di conferme sull'articolo stampa che contiene l'intervista del senatore Miglio l'intervista di cui abbiamo già parlato di Miglio rilasciata a Il Giornale quando dice che c'è una parte buona delle mafie che in un progetto certamente più ampio può essere costituzionalizzata e il 27 luglio del 2016 si intrattiene con Umberto di Nolfi anche su questo aspetto compie esplicito riferimento al senatore Miglio dice che lui sa che il senatore Miglio per conto della Lega Nord in quel progetto separatista di cui abbiamo già parlato varie volte aveva stipulato patti con Cosa Nostra fa riferimento ai viaggi che Miglio ha fatto in Sicilia e agli incontri che Miglio ha avuto connitto Santa Paola nella zona di Catania per parlare di questi progetti e che il riferimento a Santa Paola per noi sia rilevantissimo lo ricavate dal contributo dichiarativo di tutti i collaboratori di giustizia di origine catanese che abbiamo sentito in questo processo da Malvagna ad Avola a Di Raimondo e soprattutto alle tantissime sentenze che abbiamo riversato in atti in cui spieghiamo qual è il rapporto privilegiato dell'andrangheta proprio con la componente catanese di Cosa Nostra anche in relazione e quindi non soltanto in relazione alle famiglie della città di Reggio Calabria riferibili al circuito de Stefaniano ma anche al collegato circuito dei Molè Piromalli ci dice ancora Graviano e della sua voce anche su questo a specificare che le leghe morirono morirono come progetto politico nel momento in cui si ebbe la certezza che Berlusconi aveva sciolto le riserve e scendeva in campo lui lo dice ve l'ho già detto c'è un'intercettazione poi del 14 marzo 2017 dalle ore 8.08 alle ore 9.06 in cui vi leggo il passaggio in lingua originale proprio perché non voglio in alcun modo alterare il contenuto dello stesso mi scuso con tutti i siciliani presenti ma alcuni passaggi diciamo di questo di questa trascrizione sono indispensabili picchi picchini vai a catania a diri ru 41 avete sentito nella deposizione di di stefano cosa abbiamo trovato in relazione alla presenza di berlusconi a catania a parlare del 41 bis all'iniziativa di pannella ve l'hai ricordato io io non ho fatto niente ti ho aspettato fino ad adesso perché hai 54 anni i giorni passano gli anni passano sto invecchiando e no e tu mi stai facendo morire in galera senza io aver fatto niente chi si tu l'autore un bene escluso il fatto che l'autore sia un verto e visto che in questa intercettazione lunghissima lui a distanza di un anno esatto dal marzo 2016 quando parlava di tradimenti di traditori e di paese in mano con promesse non mantenute torna a fare lo stesso discorso a distanza di un anno esatto per dire chiaramente l'autore sei tu io ho aspettato o aspettato ma ti viene ogni tanto in mente di farti una passata di una passata una mano in ta coscienza se è giusto che per i soldi tu fai soffrire le persone così quali sono i soldi mi pare che il graviano abbia ritenuto di dircelo nel corso del suo esame indicando anche il fatto di essere in possesso di un documento da cui questa relazione risulta documento quindi in grado di dimostrare il rapporto tra lui e quel gruppo imprenditoriale tra lui socio occulto di quel gruppo imprenditoriale che avrebbe avuto origine nei primi anni settanta su iniziativa del nonno che aveva convogliato su quel gruppo imprenditoriale una quantità di miliardi certamente enorme per quelle che erano le capacità finanziarie dell'epoca e allora questi riferimenti che graviano reitera nel corso del suo esame sono di grande rilievo e ve l'ho detto prima anche per contestualizzare e valorizzare al meglio il dichiarato di Giuseppe Di Giacomo il quale ci indica le sette componenti di vertice dell'andrangheta che come avete visto noi abbiamo avuto già modo di identificare sulla base dell'apporto dichiarativo di altri collaboratori di giustizia che nulla sapevano di Di Giacomo anche in relazione alle confidenze di Santo Mazzei nella parte in cui Di Giacomo precisa che Rina aveva coinvolto i calabresi attraverso il graviano non solo in relazione a quella che era la parte stragista in senso puro consumata in quegli anni ma di Giacomo che li aveva coinvolti insieme ai napoletani nella parte di quella strategia che prevedeva il massiccio così dice il collaboratore sostegno elettorale a Forza Italia e da chi aveva appreso queste circostanze di Giacomo dal Santo Mazzei che aveva commissariato Nitto Santa Paola a Catania quale uomo di Leo Luca Bagarella vertice vero di Cosa Nostra dopo la cattura di Rina il 15 gennaio del 93 Nelle intercettazioni e nell'esame poi ci spiega meglio ancora Giuseppe Graviano che cos'è il colpo di grazia che cos'è il colpo finale da dare nel gennaio del 94 e ce lo spiega andando a integrare il dichiarato di Spatuzza creando per noi e per voi un parallelismo di grande peso dimostrativo con quelle vicende di falange armata che vi ho rappresentato prima per dirvi una cosa che vi avevo accennato stamattina facendo un po' come Lucarelli Carlo c'è solo una rivendicazione di falange armata precedente all'attentato cioè falange armata nella ricostruzione che il servizio centrale antiterrorismo ha fatto sul nostra delega ha sempre rivendicato l'attentato già consumato a partire dall'11 aprile del 90 in relazione all'omicidio di Umberto Mormini solo una volta ha fatto una telefonata preventiva sapete quando il 21 gennaio del 94 cioè il giorno in cui avviene l'incontro del Bardonei chiama il telefonista di falange armata il numero verde della questura di Roma e dice domenica 23 gennaio 94 la domenica in cui bisognava consumare la strage dell'olimpico sarà consumato un attentato presso lo stadio Marassi di Genova se ci sarà Agnelli in occasione di Sampdoria Juventus quella domenica si giocava effettivamente a Genova Sampdoria Juventus come leggiamo questo avvertimento preventivo è perché una lettura la dobbiamo effettuare può essere interpretato in due modi io ritengo semplicisticamente come il banale tentativo di spostare l'attenzione su Genova rispetto a quanto si era già programmato su Roma ci sta magari tutte le informazioni venivano convogliate sull'Adigos di Genova l'allora Ucigos si disinteressava ad altre situazioni potenzialmente a rischio e poneva la sua attenzione su quel tipo di indicazione io dico che però più compiutamente l'interpretazione corretta da fare sulla firma preventiva che Falange Armata aveva posto in relazione a quell'attentato in realtà era la firma preventiva di Falange Armata sull'attentato già programmato allo stadio olimpico e cioè la fretta era tale come ci dice Graviano nelle intercettazioni e nel corso dell'esame confermandoci la fretta di cui ci parla Spatuzza che in quell'occasione la consumazione dell'attentato allo stadio olimpico il 23 gennaio del 1994 in occasione di Roma Udinese doveva immediatamente quel giorno stesso essere riconducibile a Falange Armata senza dubbi senza tentennamenti senza aspettare telefonate successive subito hanno ammazzato 55 carabinieri che sia Falange Armata lo sappiamo perché hanno telefonato due giorni fa alla questura di Roma perché il parallelismo è talmente evidente tra stadio Marassi e stadio olimpico partita di calcio partita di calcio che nessuno degli investigatori e soprattutto nessuno di quelli che dovevano immediatamente cogliere il peso della rivendicazione Falange Armata avrebbe potuto avere dubbi una volta sola e questa telefonata alla questura di Roma parte da Roma dove c'erano gli stragisti come ci raccontano Spatuzza e tutti gli altri e allora questi sono gli elementi su cui noi siamo chiamati a ragionare questi sono gli elementi su cui noi dobbiamo soffermarci per contestualizzare tutta una serie di accadimenti e valorizzare e ho davvero concluso questo mio lunghissimo intervento il contributo dichiarativo di quei collaboratori di giustizia che ci spiegano ancora meglio perché i piromalli De Stefano perché qui noi stiamo parlando di piromalli De Stefano solo che l'uomo dei De Stefano che doveva essere qui imputato c'è morto pochi mesi prima della richiesta di misura cautelare Demetrio lo giudice detto Mimmo quello che aveva contatti con Giovanni Aiello quello che calabrò Giuseppe ci individua come colui il quale sapeva tutto quale uomo di Micolibri e quindi della più importante famiglia De Stefano e chi ci dà un contributo ulteriore per sciogliere qualsiasi residuo dubbio sul perché si mossero quelle due componenti apicali dell'andrangheta che poi come avete visto nella rappresentazione che fa Giuseppe Di Giacomo rappresentano anche altri soggetti che il Di Giacomo ci inserisce in quel direttorio perché i De Stefano sono anche Pasquale Condello e Franco Cocotrovato e sono tre Pino Piromalli e anche Luigi Mancuso e sono cinque Nino Pesce lo abbiamo visto come viene accostato al gruppo Piromalli Molè Mancuso e sono sei e la Ionica sono i Papalia ce li abbiamo tutti tutti ce li abbiamo e vi ho spiegato perché nel momento in cui sulla fascia Ionica si muovono i Papalia non è più chiamato a muoversi nessuno perché i Papalia sono da circa 40 anni collocati a livello più alto che l'andrangheta ha soprattutto per la loro capacità relazionale con i mondi che compongono quel sistema e che si riferiscono ai pezzi deviati dei servizi di sicurezza guardate da questo punto di vista qual è il contributo decisivo che ci dà Grimaldi Vincenzo nella mia memoria scritta troverete nel dettaglio la compatibilità piena dell'apporto dichiarativo del Grimaldi nel momento in cui fa riferimento a Santo Asciutto uomo dei Piromalli nel momento in cui fa riferimento a Roccomole uomo dei Piromalli che gli spiegano guarda che nella strategia stragista ci siamo dentro anche noi quindi ha ragione Spatuzza quando fa riferimento a Filippo Graviano che dice allo Spatuzza di rispondere ai picciotti ai giovanotti di indrangheta e camorra che si lamentano del carcere duro se vuoi sapere se vogliono sapere come è andata che chiedano ai loro padri questo è il peso delle dichiarazioni di Grimaldi questo è il peso di tutti quei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni che vi ho richiamato provenienti dall'indagine crimine infinito nella parte milanese di Rocco Filippone capo mandamento tirrenico che alza la mano a un certo punto rispetto all'avanzamento di grado di alcuni soggetti di indrangheta e dice no perché io devo esprimermi favorevolmente perché da uomo dei piromalli la carica di vertice mandamentale è la mia e quindi non potete farne a meno perché vi ho fatto riferimento più volte all'apporto dichiarativo di tutti quei collaboratori di giustizia tra cui Gaetano Costa ma anche gli altri che ci danno per primi notizia del circuito riservato di indrangheta vi ho spiegato che quel tipo di riferimento era indispensabile nella misura in cui un collaboratore di giustizia di alto livello come Antonio Calvaruso ammette di essere un uomo riservato di bagarella era necessario andare a verificare prima in sede investigativa e poi in sede processuale se le due grandi componenti mafiose del sistema criminale che si è mosso attorno alle stragi avessero entrambe come ci dice di Giacomo da ultimo un livello riservato o segreto e avete visto quello che risulta su Cosa Nostra e quello che risulta sull'andrangheta e avete visto che entrambe hanno questo livello da anni che è il livello a cui spettano le decisioni straordinarie straordinarie come quelle assunte nel momento in cui si decise di portare avanti una strategia stragista che passava da tutta una serie di interessi convergenti legati al crollo di una stagione politica che ruotava attorno al blocco comunista che vedeva il disgregarsi di forze massoniche di ispirazione egelliana che cercava nuove referenti politici nel momento in cui i vecchi pur essendo formalmente ancora sulla scena non erano più in grado di garantire nulla questo ci dicono i collaboratori di giustizia che immaginava di sfruttare le potenzialità elettorali della Lega Nord vicenda Miglio e Lega Meridionali che poi su indicazione di Gelli e non solo come ci ha spiegato Antonio D'Andrea anche sulla base di indicazioni che provenivano da ambienti vaticani si portò avanti il progetto della Lega Meridionale progetto della Lega Meridionale che in realtà diventa una mera copertura nel momento in cui quelle componenti criminali sanno che Forza Italia sta per diventare un soggetto politico effettivo ecco Provenzano che si muove su un versante Bagarella abbandona Sicilia Libera Graviano li informa di quello che sta succedendo perché nel dicembre del 93 a contatti ci ha detto nel corso di questo processo con chi il progetto politico Forza Italia stava portando avanti Giuseppe Piromalli nel corso dell'udienza di Palmi dichiarerà in quell'esatto momento storico voteremo Berlusconi voteremo Berlusconi Falange armata scompare per ricomparire solo 19 anni dopo e dire a Totorina guarda che il mondo in cui vivevi quando eri al vertice di Cosa Nostra prima libero e poi latitante è un mondo che ancora esiste e a cui compete di dare risposte che non sono più di tua competenza io adesso passo la parola al procuratore Bombardieri possiamo fare le ore le richieste o volete fare una breve pausa perché mi avevano segnalato come volete allora facciamo una brevissima pausa volevano accedere va bene la Rai 3 per fare delle riprese non so come volete stanno arrivando facciamo una brevissima decida lei a noi va benissimo cinque minuti va bene arrivando facciamo una brevissima decida lei a noi va benissimo cinque minuti devo salutare il procuratore Caffiero è un gradito ritorno per noi a Reggio Calabria prego procuratore grazie presidente signor presidente signor giudice all'adere signori giudici popolari permettetemi prima di concludere con le richieste di pena la lucida puntuale completa requisitoria del collega Lombardo con il contributo del collega Ignazitto di ringraziare per la sua presenza qui oggi il procuratore nazionale antimafia antiterrorismo ha voluto essere qui presente lui personalmente e noi lo ringraziamo per la vicinanza sua e dell'ufficio nazionale a questa direzione di settore antimafia cui non ha fatto mai mancare il conforto del coordinamento con le altre direzioni di settore antimafia nell'ambito delle sue competenze istituzionali la sua presenza qui ha tante ragioni e la prima è quella che richiamava già il collega Lombardo all'inizio della sua requisitoria questo processo trova origine in un procedimento penale nato con un atto di impulso della procura nazionale antimafia antiterrorismo quell'atto di impulso che è giunto qui alla procura di Reggio Calabria e che ha avuto il suo maggiore sviluppo proprio quando Federico Capiero de Rau che oggi è qui come procuratore nazionale antimafia era all'epoca procuratore di Reggio Calabria peraltro e da maggiore ragione a questo procedimento nella fase dell'indagine è stato applicato per lungo tempo affiancato al collega Lombardo un sostituto procuratore nazionale antimafia antiterrorismo e da loro capite signori giudici signor presidente signori giudici che la presenza del procuratore nazionale antimafia antiterrorismo non è una presenza di stile non è una presenza formale è una presenza che riconosce lo sforzo che la DDA di Reggio Calabria anche con il coordinamento nazionale della DNA ha realizzato per giungere alla verità giudiziaria che ricostruisce responsabilità e ragioni di eventi così drammatici per la storia del nostro paese così lontani nel tempo e dallo stesso tempo così vicini per tutti proprio come il collega Lombardo ad inizio requisitorio ha avuto modo di affermare brillantemente facendo riferimento al concetto filosofico di eterno presente questo ufficio questa direzione del settore antimafia all'esito dell'istruttoria dibattimentale ritiene di avervi offerto con la requisitoria e con l'istruttoria dibattimentale un quadro probatorio pieno in ordine alla responsabilità penale degli attuali imputati ha ricostruito appunto attraverso una meticolosa istruttoria dibattimentale da lei magistralmente diretta signor Presidente me lo consenta senza tentennamenti e senza forzature ha ricostruito le vicende storiche verificatisi tanto tempo addietro ed ha consentito di riferirle alla responsabilità personale perché di questo parliamo in un processo penale di responsabilità personale anche degli attuali imputati senza necessità di salti logici senza necessità di forzature semplicemente provando circostanze concrete e collegandole tra loro attribuendo ad ogni circostanza il suo reale valore e collocandola ciascuno per quello che è stato dimostrato in un disegno complessivo in una strategia stagista che in un'epoca triste per la storia del nostro paese ha visto il rinsaldarsi di alleanze tra potentissime organizzazioni criminali che già collegate tra loro erano e di cui gli attuali imputati sono esponenti di primo piano sin dalle prime sentenze che sono state scritte su queste drammatiche vicende è sempre emersa la consapevolezza che non poteva trattarsi solo di gesti criminali estemporanei di giovanissimi delinquenti gesti criminali frutto di circostanze imprevedibili e impreviste c'era ben altro e noi oggi l'abbiamo ricostruito in questo processo c'era una storia criminale che si è intersecata con altre drammatiche e dolorose vicende verificatesi a Roma verificatesi a Firenze verificatesi a Milano e che hanno visto procedere altri uffici di procura e qui è stato lo sforzo di coordinamento della direzione nazionale antiterrorismo e hanno visto pronunciarsi altri giudici con sentenze anche passati in giudicato che hanno ricostruito verità giudiziarie che già lasciavano intravedere scenari più ampi se possibile ancora più drammatici e che trovano in questo processo altri tasselli fondamentali per la ricostruzione complessiva di quanto realmente avvenuto in quegli anni e di questo avete traccia in tutti gli atti giudiziari che sapientemente il collega Lombardo ha versato negli atti di questo processo voi signor Presidente signori giudici siete chiamati a dare giustizia ma a dare giustizia non solo alle povere vittime degli attentati stragisti in contestazione a dare giustizia non solo alle loro famiglie ai loro amici voi signori giudici siete chiamati a dare giustizia al popolo italiano nel cui nome pronuncerete la vostra sentenza vittima di quel mostruoso pazzesco disegno stragista è l'intero popolo italiano con le sue istituzioni democratiche e dal popolo italiano dovrete spiegare con la vostra sentenza quello che in quegli anni drammatici è realmente avvenuto il collega Lombardo vi ha dimostrato che al di là di ogni ragionevole dubbio con un impegno professionale straordinario che i carabiniere vittime degli attentati di Reggio Calabria di Scilla tra la fine del 93 e l'inizio del 94 sono stati sacrificati in un più ampio disegno stragista ad opere delle mafie unite tra loro e di mandanti ancora occulti che mirava al cuore dello Stato e di questo per quello che qui interessa sono sicuramente responsabili personalmente Graviano Filippo e Filippone Roccosanto Graviano Giuseppe e Filippone Roccosanto a loro e comunque a loro va scritta la responsabilità di tutti i fatti reato loro contestati signor Presidente e signori giudici non siamo qui per chiedere pene esemplari le pene esemplari sono per la piazza sono per i giornali non siamo qui per chiedere pene giuste pene che vengano parametrate con le norme dei nostri codici pene che rispondono ad un senso di giustizia pene che rispondono a quei parametri normativi di cui voi dovete fare uso e siamo pene che nell'applicazione di questi parametri normativi non possono che essere le seguenti Filippone Roccosanto deve essere riconosciuto colpevole di tutti i reati che lui ha scritti e deve essere condannato alla pena dell'ergastor con isolamento di urno para danni 3 in relazione ai delitti di cui ha i capi A, E ed L prego il riconoscimento della continuazione fra i predetti e i reati e riconosciuto come violazione più grave quella di cui ha il capo E deve essere condannato al trisì alla pena di anni 24 di reclusione in relazione al diritto di cui ha il capo della rubrica per una penna cumulativamente considerata dell'ergastolo con isolamento di urno ad anni 3 Raviano Giuseppe deve essere considerato colpevole di tutti i reati a lui contestati e deve essere condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento di urno pari ad anni 3 in relazione ai diritti di cui ha i capi A capi E e capo L prego il riconoscimento della continuazione fra gli stessi e considerato il reato di cui ha il capo E il reato più grave chiede inoltre che gli stessi vengano condannati al pagamento delle spese processuali e di custodia chiede che gli vengano applicate le pene accessorie come per legge ed in particolare che vengano interdetti in perpetua di pubblici uffici che vengono dichiarati in stato di interdizione legale e che siano dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale che infine che gli stessi imputati siano sottoposti alla misura di sicurezza e alla libertà vigilata per non meno di anni 3 a essenza degli articoli 230 come primo numeri 1 e 4 e per il filippone anche in relazione all'articolo 417 codice penale e con la confisca di quanto è in sequestro grazie grazie pubblico ministero grazie grazie